Sta speliccio, ma tu mi vedi che spelo? Sto spelando Luigi Tanda cazzo da capid, sto spelando Luigi, buonasera a tutto Just run Just run, buonasera Mamma mia, direttamente da Torino Il just run Eccolo, insomma, siamo mangiato un panino Apri, benedettamente Preparatevi, adesso si fa sul serio Aspetta, sa No Dice che assomiglia a me Beh, però un po' di... No, chat che dite? Beh, però un po' di... Eh no, chat che dite? Eh, lei... ma lei o lui, Ren? Ma lei se mente te Non lo voglio salutare, vuoi andartene? Anche me non ti voglio salutare Ma assomiglia a lei o a lui, Ren? Non ho capito Beh, gli hai appena dato il 2 di picca... Gli hai... gli hai dato il 2 di picca, sa? Eh ma, oh, ci mancherebbe Rennaio, ci mancherebbe Cioè, no, ci mancherebbe Sono fidanzato Nel senso che sono fidanzato Non per altro Guarda, cioè, sei... Cosa vuol dire? Oh, fra, ma hai partito la... Rennaio, dai, per favore Non mettermi in imbarazzo Non dire che ho filmato questo programma Per favore, Rennaio Ti mando un grande abbraccio Però, cioè, cerchiamo di evitare Perché se lo vedi le di shark so cacchi E se, ma carai Un abbraccione, Rennaio Oh, fra, no, le impostazioni di questo cor... Sto sparando con R1 Fra, sto sparando con R1 Perché questo cretino No Fra No Ma do, fra, sto sparando con le cose Di quel balordo di pecora zoppa Professor Il dottor Bavaro Vai che storo, come stai? Cioè, comunque il mio cervello Nonostante sapesse che sparavo con... Islandese! No! No! No, ma è la Moriello Non è l'Islandese, fra Ma è Islandeno! Ma Moriello, è lei! Allora, ogni volta che mi esce il Titanic Leggo lo squalo E allora penso che sia lo squalo Il mio cervello pensa che sia l'Islandese, capito? Invece è la Moriello, ragazzi Conto a chi siamo? O è lui, o è lui Digibenz, il Titanic Sai dove te lo metti? Nel Pustifidot Io il Gulag lo vinco E sto a chi? Bella Baffone Grazie per dicerlo Mi si dà, premetto Il Baffo Baffon Il Baffo Baffon O eri ci si dà avesse Vieni qua Pusciami Pusciami Elimina i nemici E ottieni delle casse di scorte Per liberartene Oh Pusciami Per favore Per favore Non piangere E non ci miranere male Dove avete mangiato? Abbiamo mangiato un bel panino col pesce A Saint Spirit A Moriello A Saint Spirit Però abbiamo fatto un pochettino Più tardi Perché abbiamo avuto Degli impegni Se così possiamo chiamarli Oh Business call Business call Delle business call Dice Il signor Ma è un nemico quello? Comunque mi sento un po' strano Ma come fa a Moriello A sapere sta roba? Ma come fanno a sapere le persone le robe? E' un pochettino Ma che cacchio ne sei? Ma che cacchio Ma che cacchio maio? Ma sei impazzito Trottetringa Comunque 50 bits Eh no 50 bits 50 dilatenze Buonasera Peppe Do a Riccardo Uno dei giocatori più forti di Spagna Chi è che mi scorre Genlive Così Chi è che mi scorre Genlive Amoriello 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 Questo citta 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 Per forza Citta per forza ragazzi Questo qua Questo citta per forza Citta per forza ragazzi Per forza Citta 100% L'unico modo che c'avevo per uccidere Non potevo segnalarlo Perché non mi ha fatto vedere la killcam ragazzi Bella Alex John Wick Buonasera John Tra l'altro è arrivato l'hype train E siamo al livello 2 Grazie al signor Baffon Amoriello Pezzo di carogna Sì Amoriello Sì è un pezzo di carogna Arriva nel frattempo Il bombolone del Pecorazoppa Rimborso spese per stasera Grazie mille Pecorazoppa 21 bits Buoni e genuini Giusti giusti Per il rimborso spese di stasera Grazie anche Daniel Per il 22 mesi di amparamento Bella Daniel Grazie per il supporto Ascolta fra Vito non mi ha fatto sapere niente Per prendere il treno Mi sa che a Riccione Col monopattino elettrico Vengo Oh e non è risposto Oh la mo sta prendendo Il biglietto del treno Eh? Alla sera sono sì Grande Alex Ah sono morto giro Oh fuck Oh cosa c'era? Ma Cosa? Call him magic Call him magic Col chiedete Dove sta la Pecorazoppa Sta accanto a me ragazzi Lo vedete sul divano Se sporge la testa Lo vedete Oh Oh e stu kighion Pensavo non ti collegassi più stasera Ragazzi vi siete sbagliati di grosso Ma dove c'è anch'io vai Don't rest One second Don't rest Oh don't rest We shame Ostito Ciao so Vi scammato il prime a mia moglie E quella se la prende come me Poi Poldina feroce Tipo Ma qual'ha fatto la resta Poldina feroce? Ma la son persa La smithangler Per i 22 mesi di depuramento Che fa arrivare l'ip train A livello 2 Per la zoppa? Per la zoppa Parn out Oggi pomeriggio Solid snake Ma non la vedo Poldina feroce Poldina Poldina Un grande abbraccio. Eh no. Sì, sì. Scusate ragazzi, stavo un attimo parlando dal telefono. Ti chiedo scusa. Amorello! Amorello! Mi serve una ricognizione aerea. Dici, pensi. Ah, well, scim. Pensavo di avere Montanaro, brutti pezzi di carogno last infamata. Ma c'è pure... L'Ale Kod Moments later Luca Baru Direttamente con la sua Subaru 1997 acquistata in Giappone E importata in Italia Tramite aereo cargo Tramite lo stretto della Somalia Presidente Cosa c'era in quel paninio Se avvi Se vengo cecchionato Esco dalla partita Sono cadiuto Sono cadiuto Of course I do Ma non è vero Ma per fortuna non sono stato truffato Amorello È difficile truffare lo squalo Intiacao Chris Squalo diamantato E si vola Luca Baru Con lo scoreggio Stasera ha mangiato pesante Che hai mangiato stasera Luca? No 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 Cale Magic Sei Quanto festeggi la Pasqua O quella del coniglio Pasquale No Pasqualo Poldina Festa gioio E' la Pasqualo In New Man Live C'è anche Ci ho provato ragazzi Ci ho provato Oh, sì, 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 c'è Cosa c'è 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 Oh, salve, Giovecione Buonasera Buonasera Dallo migliore Dallo migliore parrucchiere Della Puglia Eppure del Nord Sento Una mina a destra Ah, Jesus Freaking Christ Buonasera Tino Il Tattino Sena Minchia Pippo e Bac Comunque è vero Ma che è In New Man Live Dai, per favore Ma Ma perché Ma cosa è sta moda Di cambiarvi i nomi E mettere sti nomi inglesi Ma vi Ma parlo come mangi Pippo In New Man Live Aspetta che Non sento gli altri picchi Tutti a me sparano Oh, sì Oddio Oddio, bra Mi prendo due piccioni Con una fava, mi sa Guarda, guarda Mi fa il succechinato Quello che ha ucciso lui E poi mi cito pure te Come sei bello, man Bene Arrivano dei nemici Attenzione in alto Lancio di equipaggiamento Per voi Come sei bello, Manuele Ma sei pazzo A challengervi così Call Call Magic Call kit A faccero Ma è vero che stai digerendo ancora il panino Panino con gamberi rossi, ragazzi Di due kill non le faccio neanche in 10 game È un peccato È un peccato Tutti me mirate I figli di pulsostita Polshk, dai però Tutti me mirate Dai, Polshk Smettiamola Che cacchio Ma qua quanta gente fuori safe c'è Questa è la giocata più stupida Che io abbia mai fatto in vita mia Però, ragazzi Per le kill Si fa questo ed altro Questo è proprio Il slide Non sa manco cos'è No E dai Chi è però Io lo sapevo che dovevo morire così Yes, I do Of course, I do Of course, I do Come siamo messi Shaking Hand Come siamo messi Shaking 5 abbonamenti regalati alla community per tutta l'estate del Badagascar Spintarela per questo finale di game Dobbiamo fare queste 5 kill Se non le facciamo adesso, ragazzi, è finita tutta È finita tutto 15 più 18 Quanto fa ragazzi Quanto fa 15 più 18 Quanto fa 15 più 18 Grazie mille Shaking Ti mando un grande abbraccio E un grande ringraziamento Qua sta qualcuno Ma sicuro No, sono morto Bravo tu Bravo tu C'è poco da fare Bravo tu Bravo tu Eh ragazzi, il finale di game ci colpisce Perché giocano tutti un po' fermi Forse dobbiamo giocare anche noi fermi Come giocano loro Forse sì Forse la metodologia è migliore per giocare questo fine di game Però la prima La prima è delle triglie The first is of the trails Dissero gli anglosassoni C'è anche Scorpio89 che dice Dove sta Vito? Non lo vedo Vito sta qua dietro Adesso vi metto full cam, ragazzi Eh? Chi Vito? Chi Vito? Quale? Quale? Grazie mille Signor Carmine 15-18 Quanto fa 15-18? 15-18 Comunque sta qua per carozo Spostati appena appena Ecco, lo vedete? Lo vedete Forte e chiaro Ma l'aveva chiesto Gianfranco Sì, Scorpio89 Eh ragazzi Ma è un onore Un onore avere qui Uno dei tenisti più forti del mondo C'è È solo un onore Muchas gracias Lo vedete qua Adesso ve lo faccio vedere Tra l'altro Anche Carlos Vuoi dire Vuoi dire qualcosa? È che Tengo che si sta dicendo Tutto a posto Comunque Tutto a posto Che deve dirvi È molto felice Di essere qua È per me anche Un grande piacere Grazie Grazie Buonasera Marco Buonasera Chat Buonasera Bod Sono un vero Bod Ciao Marco Chi era quel ragazzo Che giocava in live Oggi pomeriggio Proprio C'è uscita una notizia Del Di Sinner Racconta L'inedita amicizia Con il calciatore Della nazionale italiana Un rapporto speciale Che li lega da qualche tempo Quote C'è quotes Giocavamo a Call of Duty Ora ci sentiamo meno Ma siamo sempre stati in contatto Quindi Sinner giocava a COD Con la nazionale Appunto italiana Frank ti vedo sab Ti vedo sab Assolutamente C'è anche sbrodalla Ci sono Sbrodalon Ci sono Ci sono Mera tardi che mai No Non sto su nessuno discord Su Petrone Non sto su nessuno discord Che sto aspettando Sto aspettando che Mochi entri su discord Se stai su lo discord Che sto aspettando Cicciopelle E che Che uno dei ragazzi Vada via Che il maestro Vada via Più che altro Arrivano dei nemici Attenzione in alto Prima dei preparativi Ora si entra in azione Quel pelicano mi ha detto Sì 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 Giochiamo stasera Sono in quattro Però stiamo aspettando Che esca Stasera Pingo parecchio Quanto è che c'è di ping? Che aratio 5 e 20 Il salve l'ultimo Andre bom Grissin bom Grissin bom Grissin bom Sta qui Giuseppe Sta qui Sta qui Sta qui Eh Terron Devi vedere quando vincevo il torneo Spizzica l'appetito E la fantasia Minchia pazzo Da pazzo Sto uscendo qui ragazzi Dai Tutto bene Andre Su come stai? No Oh No 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 Che palle Che non si fightano loro Come si fa Tonito ci stiamo lavorando Ci stiamo lavorando E stiamo sa chi para lavorar E stiamo travagando Poi ci sono due casse bianche accanto C'è anche Gilberto One Kill in chat E One Kill Ciccio mi ha inviato il messaggio vocale Aspetta che Andiamo sul Discord Ragazzi Quando ho finito avvisate Ciao ragazzi Mi dici perché mi salta sul muretto? Perché mi salta sul muretto? Ma che spari sul cadavere Che fai vomitare Fai schifissimo E spari sul cadavere L'ha detto L'ha detto Andiamo avanti Andiamo avanti Facciamo finta che questa partita Non si è mai esistita Non si è mai esistita Oh Marco Eh? Ma le quattro Eh L'ha preso Michela Fammi vedere Fammi chiedere a lei Eh ma starà dormendo Non me l'ha mandati No non me l'ha mandati Ma perché non c'è nessun cosa Non ci sono le quattro Possibile fra Allora fammi vedere Un attimo Vedi dall'applicazione Trivitalia Ah mi sa che sta svegliando Te lo dico Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Michela Sì se dice questo qua Se dice Controllate l'attrezzatura Si entra in azione Oh Luca Mi dica Mi dica Che è successo? Corrando a un quartetti Che è? Devinic Quali sono i tuoi nuovi capelli? Mandami Mandami Eh crazy Una clip vecchia Cosa? Mandami Che li fa pure Pecorazoppa domani Che viene al barbiere Commedico Ho messo la storia Su Instagram Mi devi far andare su Instagram Devo andare a vedere Baby Nick Come Nick Che ti chiami Su Instagram Dai Fra Te lo giuro Non ho mai visto Dei capelli più brutti Dei tuoi Perché poi capelli Fra Ci avrai sei capelli In testa Comunque L'hai vista? Dai Fra Ma che cosa sei? Un pulcino Un pulcino spelacchiato Ma che cos'è? Ma mi vedete qua? Ma cos'è tipo La foto per vedere C'è i buchi Che c'è interno Non ho capito C'è quello Poi mi prende in giro A me Che non c'ho capelli Ma come si fa? Un tratto ricercato Qui Simbo Semi Mata Elimina tu Riferso agli nell'area Hai una taglia sulla testa Elimina i miei Chiare bebe Riachire baila Ci sono nemici? C'è quello Si è fatto Quei capelli Prima di venire Al samsara Gassi in arrivo Sai chi sembra? Sai chi sembra? Sai che sembra? Con quei capelli così Il fidanzato di Di quella porra Dell'attrice Dai ragazzi Avete capito Della nappi Della nappi Sembra lui Sembra tu Bebe C'è questo E' venuto con la macchina Apposto a posto Per prendere a me Che sto con la corona E ne manca Mi si accede Cos'è un topo fra Voi avete mai visto I topi su corso? Fra è letteralmente lui Aspetta Ora E' lui E' lui E' Baby Nick Ma dove c'è lo stesso? Contrato ricercato chiuso Lascio di rifornimenti In arrivo in zona La galera Come so Don't so Ci serve una ricognizione aerea Non ci stai proprio nessuno Buonasera Vito Ma stasera Savi non c'è Eh mi sa proprio di no Tutto bene salvatore Ragazzi Come state Come state ragazzi Questo è sceso giù Attenzione UAV in uscita Dall'area operativa Poi meteo Domani c'è il sole Ma perché c'è 75 di ping? Mi sa che dopo metto una bella VPN Ragazzi Sai se la stanza La ricetta è per Pasqua Sì Ma questo proprio Ma ma che fa? Deluxe Oh tonitro Bendissimo Ti mando un abbraccio eh Ho visto un video di biffle Di 30 minuti E mi gira la testa Ma ho 30 minuti Del video di biffle E oltre a girarti la testa Non dire pure Che ghiungo Dare Ollywed Che cosa mi dice Signor Olly Ollywed Mi passo a mi vita Ma genilda Come coraggio O comunque La papascia Dobbiamo dire di togliere quella ipad Te lo giuro Lo vedo con la coda dell'occhio Mi dà fastidio Mi viene da sopra No Vai pa di giro Lo pa che vedo la luce Con la coda dell'occhio Vada Gobo Grazie mille per la risposta Grazie Gobo Eh? Vassi Sì sì te lo giuro E c'ho la periferica Che Dell'occhio Che non mi funziona Ci serve una ricognizione aerea Ma brand Non è sempre audio C'ho le cose Del UAV Che lo vedo Che sta sopra sotto O vado per esclusione O vado per esclusione non è solo audio ovviamente ci sono anche quadratini dietro il monitor quanto scappi fra no sono morto peccato ma che c'è sfortuna sopra warwa vedete che la ghicchia un po c'è sfortuna no ma ce n'è un altro grazie mille scarpion tra i cinque visite per metto per la scarpion il cugino di scorpion patrizio munno ma quanto citti è patrizio assai se non come voleva ci vuole che vedi io so che il nemico sta là dietro vedi che ti ho detto io fra e ovviamente anche ad avere un leggero wallah che mi dice più o meno dove stanno i nemici c'ho anche diciamo la cosa che ti aggancia direttamente alla testa è normale è scontato perché sennò come le faccio le chi devi avere un po' di roba ovviamente tutti gli streamer poi c'hanno un po' di cheat c'hanno un po' di roba è proprio una regola di noi sto in me vedi adesso ho attivato la cosa che non mi può più hittare vuoi dire infatti adesso non mi hitta più adesso mi può hittare però comunque non ci riesce dove posso scaricare i cheat? su iam n oob punto com da lì puoi scaricare tutto quanto quello che ti serve la web fornace attenzione c'è una squadra nemica che ti cerca mi chiamo cucciola sono un gattino sono la festa del telefonino chiusa parentesi chissà chi è non lo saprai mai faccio il giro ancora a spararmi stai fratto ma devo venirti a prendere dai ti vengo a prendere dopo che mi sta rompendo un po' le scatole no dai dietro non 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 Grazie a tutti. Non hai sfruttato l'opportunità. Ma questo non l'ho visto proprio. Lo sapevo che usciva da quella finestra, fra... ...dipo evo? No, c'è... Urca urca! Il gas è sempre più vicino. Bersaglio marcato, richiedo un attacco. Confermato, finish 2-3 in zona. Attacco il netto. C'è sì, c***o. Oh, penso c***o, mi sapevo. Cioè, com'è fatto a non prenderla, ragazzi? La prima volta, la seconda sì. Va bene. Mistero della fe... Gioco in 2K, io gioco in 2K. Il singoletto, ragazzi, è una godoria estrema. Ah, è impossibile prenderla. No, GG. Fregate! Mi ti so fregato, usciamo. Oh, bravo tu, bravo tu. Peccato. Valla chi è. Poi sai che non ti ho... Pensi che non ti ho visto che mi hai girato a destra? Allora, a te ti ho fatto. E mo' faccio un quick pure a te se mi ci alleno. Sigh. Buongiorno i sognatori direbbero Indel XRK punto esclamativo armi Monitor per console punto esclamativo monitor Ciccio savage è il gettone del gulag è andato ragazzi tanto Io questi fight li perdo sempre comunque Guardate ma questo lo faccio in cibo Arrivo così Che buon muoio Perdo sempre Mi spari sul cadavere devi dire La piastra in meno mi fotte Mi fotte Mi fotte Mi fotte Spari sul cadavere Bravo spara sul cadavere Zino grazie per aver incontrato 4 mesi di abbonamento Bella Tino Zino scusami grazie mille Zino on the party Grazie anche del criminale Signore di Twitch grazie mille Allora fatemi attaccare un attimo la VPN Borgongino Ma avete Un bello bocongino Ma Ma avete vinto di fare i bagliaggi Hai già finito la partita Ma avete Ho già finito la partita L'ho fatta tutta intera Cioè Non so Per tenderi Lo sappiamo che è in seconda safe Arrivato Joseph Tombolano Sei rapido Vabbè avvisatemi dopo Ma dove vai Ma cosa fai Dove vai Dove vai Sto tornando Merde Oh no Mi stavo giurano Una volta La sentivo spesso Oh no Fazzesco Perché Vabbè com'è Anche tu Te a Luca Fusco Eh Questo è il pezzo Il doppio Il doppio Il doppio Il doppio Il doppio Ah Eh Vi trovo per vedere Quello 4G Oh ma Joseph Come stai oh Ciao Rosa Mi ha calda E' così costa Eh Tante bassissime Sembra di Webby Quando si bugga il microfono Come state Adesso meglio Seduti Eh sì Webby Io fresco Allora Luca Marco Semplich Win Con tre Sembra Morto Allora ragazzi Luca Baru Ci ha fatto una scommessa Che ha detto Sembra Ci ha fatto una scommessa Ragazzi Luca Baru Se vinciamo in singolo Cioè In quartetto Ma con tre random E vinciamo la partita Dona dieci sub Ragazzi Luca Baru Ci ha mandato la scommessa Peccaro Che cosa ne pensa Questa è una sfida Che non abbiamo mai fatto E effettivamente È abbastanza interessante Perché Cioè Devo vincere una partita In quartetto Contro il random Cioè una sfida Che non ho mai fatto E che effettivamente Va a creare Un rapporto Con dei random Che potrebbe essere Negativo o positivo Com'è? Luca Baru Luca Baru Il nostro VIP Per eccellenza Ah singolo Allora Volevo scammarlo però Di far fatto Ma la skin Più o meno Come fa un piccione Io cago Sopra il cornicione Ma Luca È giusta la scommessa? Cioè ci sta Giusto? Oh Alec C'è là con me Che ho sta skin Che ho comprato sta skin Dice che è bruttissima 10 sub in palio Quartetti con tre random Con win Badly CM Allora mettiamo In evidenza il tuo commento Dobbiamo mettere la bet? Vediamo chi ci trova insieme ragazzi Chi ci trova? Exit lag Luchino Non so se funziona bene Se mi funzionerà bene o meno Ho giocato con 70 di ping Prima C'ho 43 Ancora ancora Con chi mi metterà in squadra ragazzi? Adesso lo scopriremo Lo scopriremo solamente Vivento Ora ti mette con tre pip Vabbè Fra Mi mette sempre con tre Che non sparano proprio Ti prego dai Mettimi con gente forte Dai Ma no Sto da solo? Ho messo completamente squadra pure Esco? O aspetto raga Sai potresti andare anche te Allì c'è la dei famosi Quest'anno c'è anche Joe Bastianich A cucinare le triglie Ma come non c'è l'olio? E di qua c'è la chat Facebook Vediamo con chi mi mette Siamo diretti alla zona di guerra E come facciate vi aspettate Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi How are you guys? Oh How are you guys? Oh Please I'm confused Shut your mouth Ah Eh Good Very good Oh è spagnolo eh È spagnolo Sì Italiano Italiano Bravo 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 Oh bravo Guys Vamos a ganar Let's go win Mamma mia Mamma mia Italiano 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 Calcio storico Calcio storico Sì Alla Madrid Sì No No Barcelona Barcelona Allora scusami Messi 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 Carain 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 Go go cucumbers Ill Sì Crokę Crown Crown Öz Militar Base Let's go Let's go Hello Ernest your Thank you Let's go How CHOI Let's go ret Okay Let's go Z4, da dove sei? Iraq 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 Oh no Elimina tutti i bersagli nell'area Questo non ha capito che... Devo scendere insieme Hai una taglia sulla tetta, elimina i nemizi o tieni delle casse di scorte per liberartene Mi sa che vincere contro... Raga, mi sa che vincere con questi sarà una bella impresa, vi dico la verità ragazzi No, vi arrivi là Dai, che non muovo Vai I cch... 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 Oh, buonanotte, madridista Madridista, ci dà cù di Raken Mi chiedo ricognizione aerea Terra è vivo Boh, buonanotte, ha abbandonato la partita Cioè, l'ha abbandonato in due Combatti per tornare in azione Di Gianni, ma mannaggia Ma c'è pure Di Gianni in lobby Ma... Ma questa qua... Hanno quintato tutti e tre Rischieramento meritato, soldato Preparati a rientrare Dai, ragazzi Mi hanno restart, no? Restart Questa... Ok Ma che lobby era questa Comunque ragazzi C'è una lobby super tryhard Grazie Snap per i 16 mesi di abbonamento Grazie Snap Cesc Fabregas là dietro è uguale Eh ma infatti è Cesc Ha giocato nel bene Lobby reset ragazzi Lobby reset Perché abbiamo avuto un attimo Delle problematiche Comunque Abbiamo visto che mi messo solitamente Sempre con gente abbastanza forte Un iracheno Uno spagnolo Kudald che non parlava nemmeno Praticamente Non lo so Sembrava una barzelletta Però adesso ci andrà sicuramente meglio ragazzi Ci andrà sicuramente meglio Sì Ale Stava così abbronzato Vito perché è andato a pane e pomodoro stamattina A pane pomodoro Marco se la vinci da solo Versus quartetti Con minimo 12 kill Le dono 10 sub Perfetto Eh vabbè Facciamo completamento Magari dopo facciamo Singolo contro quartetto Anche se Esatto Jesus Christ Magari mi pagavano Quelli della Levissima Te lo giuro Se sta qualche Magari general manager Della Levissima Qualcuno conosce qualcuno Della Levissima Una bella sponsorship Non sarebbe davvero male Che ci troveremo adesso Chi ci troveremo ragazzi Ciao saviti Ho visto ieri mattina In piazza ferrarese Ieri mattina Ah ieri mattina Stavo a dorm La mattina è impossibile Boh raga Livello 25 52 Livello 4 Ma con chi sto giocando Fra Cioè questa è la prima partita Che gioca Hello guys Hello hello Do you have a microphone Ragazzi questi hanno scaricato Il gioco ieri Ragazzi livello 4 Significa che è letteralmente La seconda partita Che gioca COD Ma no Ma no ragazzi Non è vero Hello hello guys Do you have a microphone No zettadonni Dai zettadonni Brutto balordo Esci dai E guarda contro Mi mette ovviamente Ovviamente mi mette i pro Guarda 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 contro chi mi mette raga Contro mi mette C'è gente che sa sparare benissimo Ma insieme mi mette con le pippe A tutte le unità Parla shadow 01 Dispiegamento autorizzato Boh Prepararsi al decollo Tre minuti e si parte Forza Eccovi Abbiamo il via libera Warzone vi aspetta Prendete le vostre cose Tre minuti al decollo Fuoco autorizzato Sogni minaccia Fate attenzione Let's go cargo guys Let's go cargo Ok What do you think Guys Questa con 15 kill Droppo 5 sub Vai da blo Comunque la WPN Per me non funziona proprio Prima Prima abbiamo beccato 10 italiani 10 anni Devo andarle a chiedere Che stavano con la WPN Siccome non stavano con la WPN Forse si Forse no Cioè ma quelli stanno arrivando Da metro Ma che paracadute c'hanno Che scendono dopo 20 minuti Ci andiamo a vedere Per esempio Haval Livello 4 Apri la porta con i punti Fra La tua squadra ha raggiunto la zona sicura Posso aprire le porte Solo con i pugni Fra fammi vedere Aspetta aspetta Dovevo vedere come apre la porta Aspetta che le chiudo Cioè vorrei fare un video YouTube Nella mente di un bot Cioè cosa passa nella mente di un bot Cioè cosa starà pensando adesso Cioè cosa Cioè entro in casa a fare che cosa Vedere gli sgabeglia Vediamo se c'è qualcuno Cioè non capisco Cosa starà facendo Chiuderà po' Vai ciccio Fatene un'altra Ci fatene un'altra Se siete in quattro Giocate 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 Chiudice Apre le porte con i pugni Cioè lui non apre la porta con un quadrato Capito Come farebbe una persona normale Dai apre la porta Cioè secondo voi Questo qua E' mai possibile che fai una chi Oh che micchia mi spari Ricarica per un colpo L'arma è da 150 colpi Ricarica per un colpo sparato Ci sta ci sta Val Quel colpo ti servirà effettivamente Per fare la kill E' successo Che bravi sa Eccolo Stanno facendo le kill Contratto ricercato Siamo facendo le kill bravi ragazzi bravissimi 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 ragazzi beh Avala ha fatto una kill Avala ha fatto una compagno ha fallito sta rientrando alla base queste scalette le fanno giusto ma no chissà non vanno a restare in manco cioè ce lo voglio apagare grazie buonasera fai ricerca partita guarda la parola lì ma vediamo l'ax magari sarà più bravo a giocare questo c'è già la skin si vede che è più bravo ma cosa sta guardando che là è fuori safe ma cosa guarda cosa sta facendo let's go let's go guys let's go push andate alla zona sicura questi sono bravi però ci serve una ricognizione aerea quanto giurano secondo me questi stanno giocando le war series ragazzi questi stanno giocando letteralmente le war series cioè ma io può a parte gli scherzi cioè io posso mai giocare con quei bot incredibili e trovarmi gente così contro ma non ha senso cioè guarda ma sono destinati a morire ma ma è normale che la gente smette di giocare cioè non ha proprio senso ma li vado a restare magari qui ma voglio dire anche se li resto non è che ci faccio molto eh grazie mille signor Faustini per i 19 mesi da paramento quello ha acquistato forza vedi ha acquistato poi crashato giustamente perdono il lavoro il tuo compagno è stato battuto e sta tornando alla base hanno acquistato in due hanno acquistato tutti e niente questa vale come 1v4 com'è? vale come 1v4 non ho capito questa vale 1v4 eh vale 1 come 1v4 questa penso di sì ma infatti io non sono d'accordo Mauri è ovvio non sono d'accordo che li mettano contro gente di 0-3 perché quello là quanto poteva mai avere ha più di 0-30 quello poteva mai avere più di 0-30 di KD certo che non è normale oh ciccio la vinco questa ragazzi va bene eh eh ma quello non mi serve ancora ti trappianto i capelli io se vincere per un giorno si connessi quelli oh rincere che ne so che tu agitra su sei vergognoso cioè che cosa mi viene a salutare quando vuoi tu dj eh non mi saluti più non mi fa ma stavi una bella lobby di boats no no ero con un livello 4 un livello 50 e un livello 25 ma hai messo una roba tipo stile gioco lento no no e se tu metti cerca party stile gioco lento in teoria trovi il lobby più semplice ma non penso no è proprio me che ho trovato un team di tryharder full stack cioè ma come faccio ci aspetta ci aspetta mi guardo la parte dei sabi dai che dici push vabbè ma guarda guarda c'è la challenge prova a vincerlo andiamo a vedere a questa parte dei sabi dai beh che dire oh joseph ragazzi si è seri salvati che uomo d'onore c'ha manco la sabina automatico che zio non mi chiedeva ancora no mi chiedo scusa vabbè c'è potevi farla non è che sono spiccioli per te alla colazione quando mi manderei un pad forse torno a non l'unico coglione che te l'ha mandato sono io il pad eppure io gliel'ho dato mi sa pure io ahia fai il fenomeno una volta chiesi il pad a marco non me l'ha mai dato eh perché ce l'avevo in più qua ecco perché gliel'ho dato stai zitto stai zitto stai zitto oh me è merd oh me è merd uno mi ha mandato un pad col tasto più importante che non funzionava uno non funzionava r2 lui andava un pad che lui è nuovo coglione perché il mio non era nuovo anche io e fa il fenomeno e ci cosa vuoi dare pagami il pad mi hai visto come si scoprono gli artarini ragazzi vabbè a ciccio non lo volevo dare no a ciccio non te lo vuole dare ma che ti serve a terra in controllo tu sei già forte di tuo come? ma non mi permettere mai ciccio Vito percorazzo ride dietro eh beh ma ride ride di che? Vito che tra l'altro c'ho una sfida vincere questa e poi devo fare e vincere con qui dici kill attenzione in alto vincere! no 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 come vincere? scusami no vabbè fra ma non no no ma dove è su? ti ha spaccato fra ma ti ha spaccato c'è fra assurdo fra il dio dei cod ma chi è questo? io i win quindi ci può facendo la challenge vision sta avviando un po' di il più forte del mondo no ma sono stanno facendo wade webby savi è entrato dai oh webby che è moderatore di savi diventa c'è il più forte guardate questa cosa che poi me la sono persa ormai c'è la spada devo compensare la spada che non ho ma perché sei geloso tu no 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 io sono più che contento i messaggi mi smuti per piacere perché qualcuno lo sospendeva vero sono troppi sceriffi ci siete? siete pronti? stiamo aspettando stiamo come mi chiamo joseph in game no no che gara il bianco come mai? come mai perché sono un fan di ganja precisi perché la precisazione il bianco? savi ma invece posso chiederti il grigio era una pippa il bianco è full op eh dirmi perché il grigio era una pippa? cosa ne pensi? un po' il grigio dai un altro che entra? no savi cosa ne pensi di quella string che ti ho mandato oggi pomeriggio? si ho una bannabile la voglio fare anch'io ma se la metti anche te non non pensi che fai qualche spec in più quella cam? ma sicuramente qualche spec in più sopra i due tipo tipo ma che ci trovano di divertente pelle a prendere in giro non capisco ma è una situazione di un vecchio amico marco e fa e fam fam sta domanda ti capita mai che quando parla joseph è al limite del bannabile dimmi cos'è che mi capita no non c'è lei non c'è le buttate larga non ti devi accavallare i coglioni perché tassini di palla fuori e quindi te la devi accavallare perché ti esce no non mi capita non sarebbe stata con la palla in fuorigioco sai non le uso onestamente direttamente senza mutande ottima tecnica il dj da pollena trocchia ragazzi non ti vedevano cinque minuti così ma non rimesso terzetti a simile avete visto ragazzi hai visto che hanno messo battuto gli altri reti ma guarda che c'è c'è ricorda shang possiamo sottolineare quanto è bello vito seduto a fianco a te ma perché stai dicendo che io faccio schifo quindi risalta ancora di più sono pronto a vito fai schifo facciamo schifo fai schifo una cheat questa da team white che detto il numero di vito che a web comunque full innamorato non so se è più innamorato di no no beh oggi la possiamo raccontare la storia fra stasera usciamo andiamo a mangiare una roba io vito e due miei amici gianfranco e gilberto vabbè comunque sai io dico no beh ragazzi comunque vito tra l'altro non mi ricordo come è uscito mi dico e dico vito è di positano a bello di positano no io conosco un influencer di positano ci guardiamo che vito avevo te lo giuro su mia madre e lui dice a noi diciamo si e come si chiama e siria e allora sai ci stiamo al gioco faccio a sì certo la conosco e lei fa e sai dice questa qua ci fa vedere il profilo di instagram e noi facciamo ovviamente finta di non conoscere non sapere niente e niente poi ovviamente non avevo detto c'è rimasto di merda ah sì sì no perché poi alla fine mentre stato il profilo che vito dice vai scorri giù scorri giù vai vai giù nelle foto e a un certo punto esce un video dove sta con vito e fa clicca clicca lì vedi vedi un attimo quella chi è e ci rimane di merda tipo ma sei tu ma non ha fatto nessun commento che commento doveva fare il grande il grande gilbert apprezzamento che ne so no 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 ma che apprezzamento gilberto gilberto ha fatto la proposta di matrimonio una settimana fa cosa vuol dire no no ci metti una benda sugli occhi un pedatore non deve mai smettere di cacciare capito 12 danno una kill non ci credo mai o no sono morto per lei aiutami ti prego mi piace alle armi come le armi quello che rubano ma che guardate ma pure questo ci ha l'amo la comprate che ha fatto è normale è regolare bravo capito ragazzi c'è pure l'uso ma 22 24 ci ciò puoi restarmi mezz'ora per le saci mezz'ora 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 perché gli hai messo pressione lui va a terra come un come un malucco mamma mia nu t'asta da spengeci nu t'asta da spengequadrat te lo stavi dicendo cosa hai dicendo un marò un marò un marò cani mi devi dare il tuo video il tuo video corto su me ehi ehi team g g g ehi notare una volta l'anno coglionazzo ma come è successo il ciccio non ho capito ehi come un minato un marò un marò un marò marco lo maccarone quindi un marò un buon povero l'ombutonore cosa è un buon povero l'ombutonore un buon povero l'ombutonore c'è anche un buon povero l'ombutonore sembra tipo il cognome di qualche africano lancio di equipaggiamento per voi ti ringrazio no senso semplicemente non mi metto a tryhardare in pubblica se mi guardi nei torni sono un tutt'altro player c'è parla che la gente si paudì stupi sì no senso quando gioco pubblica non sfrutto non mi impegno in realtà al 100% come era come era bianco e mi impegno è per carità mi impegno diciamo non uso tutto il mio infatti chissà chi li sta scrivendo chissà in quante mi stanno scrivendo è Sire che ha detto è Sire che gli ha detto mettiti a vista che ti voglio vedere però mi volete stare che città mamma me state zitti per l'amor di Dissolo quello ride ma non ti puoi fare nei cacchi tuoi a stare zitto sì però Marco non ti lamenta sempre sei tu che ti calci le cuore mamma mia cuta al dc c'è da mezz'ora che sembri pelle audio audio per favore dai e dai basta ma devo sentire devo giocare con quello che va ma secondo voi è normale grazie per i 18 mesi da premetto Cesco grazie per i 19 mesi da premetto dai ringrazio puoi fare wow Marco ma ciccio non vedi che ho 2400 che wow devo fare ma mi sono confuso col palma oh ma mi cacchio mamma mia ma mi ritabile stasera ma non è che cosa si ah ma no c'è ciccio non è che dice no mi sono confuso no ti dice Marco Marco perché sempre io sbaglio ciccio vero? sempre io no mi sono confuso io ma non è così pesante ma eh e dai ciccio per favore non è che è sempre colpa mia non mi mette le pressione sei suscettibile sei suscettibile sei suscettibile no no hai scudi in più ciccio? che tengo? scudi in più? piastre scudi? plates? chiedi scusa chiedi scusa vale ma chiedi scusa metti te in zinotto metti te scuorn metti te scuorn tu mi ti metti scuorn oi? scuorn me l'ha insegnato le t-shower gas in arrivo c'è una nuova zona sicura scuorn scuorn ma come te schifo veramente ma questo ha parlato ehi ehi ma chi è un bambino questo ha parlato? che cosa è? c'è il nanno che attenzione c'è una squadra nemica che ti cerca un tuo compagno è finito questa è la max storia di come la mia vita è cambiata capovolta sotto ciò è troppo pochi va lì qua dentro il principe ciccio no c'ho un nitro più forte di belè dove stai? ci petronè dove stai? a milano ci petronè a casa a casa a casa pasqua bisognava fatturare marco e certo come sempre lucio pedro è sempre on point l'uovo di pasqua l'uway mi hai comprato l'uovo di pasqua mi hai comprato l'uovo di pasqua ma qua ci sono due mi hai comprato l'uovo di pasqua sai per me si ma franno ma stanno portando ma stanno portando ma stanno portando ma stanno portando ma vai ciccio è tutto tua passami un po' di soldi ciccio passami un po' di soldi per favore che effettuerò un po' di soldi no no dimenticato la cialdina e cazzo e si è azzeccato tutto ma si è azzeccato? beh si è incollato va a butto lo dico l'italiano capisci? cos'è che ha azzeccato? da noi è azzeccato il giro non c'è ah ok che dite push di brutto no no che push di brutto qua ma do tre persi dai c'è i chini che sparano le smoke ragazzi a casa non c'è la gana da barostica sali sali citta ragazzi per forza facco la fulla lo però però fra come è possibile? ma come è possibile che non lo uccidi? come sono morto? che se ne arrivi chi è vita? chi è vita? chi è per chiesco? ma se sono morto? come mai sono morto? Vito? secondo te come? avevo un po' di danno avevo un po' di danno avevo furtito o no? per contribuire a togliere la taglia mi sa che eri tipo con un millimetro di vita in meno ma non penso abbia fatto questo si ripresa la punta vai ciccio bravo apri le piastre ragazzi ciccio ce li porterà tutti in vita secondo voi? impossibile grazie mille signor pisciuz per il 383biz buone di 51 pisciuz grazie mille comunque non vedo tanta differenza di gioco tra ciccio e savi ma anche di kill ragazzi alla fine è un 1 che cambia nooo ma se le scorte rifornite prendete quello che vi serve c'è qualche cosa di sbeffeggia ma che neanche stava c'entra ma i nubes vuoi? io non lo spieghi 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 dove vai ci? dove vai? ciccio ma non c'è niente qua no 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 c'è ma c'è il resto già si ma si ma... ma si ma... ma che c'è gente lì? non ho capito mai però stai correndo in open ha le brn dice che i compagni sono poco presenti comunque quindi anche te le fanno non sono presenti ciccio comunque lo sai che pecora zoppa è venuto fino da Positano e mi ha portato una mini bottiglietta di limoncello cioè ma come... te ne emana è cupino vita eh ma che stai bene ragazzi digano questa nuova oh no ciccio ma questo li ha portato? no 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 cioè mi ha portato solo una... una mini bottiglia di limoncello e basta che schifo che schifo che schifo che schifo cioè cosa li vuoi dire eh? ci è un balord raga veramente fan ti bussano il ciccio dai ci non ho avuto tempo oh vai non vuoi sparare andare a patanei sorda ma hai chiamato ciccio che è dopo ma che devi fare eh frate uccide perché non so dove stai vai nel buco vai nel buco è stato non sparare perlone però però se lo uccidito gli 25 secondi diglielo no no ma se tu cito 25 seconda ce la faccio la fa 56 secondi grazie andrea la shalk team e il pellaccio ringraziano uccidila 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 stai lì per l'amor di dio della modossola ci ci distante facili non lo sapevo che amico E' morto Ma vai a cagare Ma perché stai parlando? Aspetta, aspetta, arriva il loadout Ah vai là, vedi un attimo Siamo a fare il loadout, no? Sono confuso È uscito, poco Perito, 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 caccato Mamma che picco Ma vai a fare in culo Hai il drone di minchia E sta un altro, aspetta Eh sì, quello che ho ucciso te, quello che ho ucciso te Sopra, 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 sul tetto Ho dici colpi Ah, la crema, aspettate, mi sa che ho uscito la crema Caccato, caccato, bene Vabbè almeno Eh fra Lascia solo lo shops poi Ho la zona sicura Ho dei soldi Guarda Faccio caso, ti piace? La casa lì Eh, non c'è La scuarda Cazzo, dico, facciamo coi navi Qui C'è la colomba, andò, era buona colomba Ma c'è la colomba Ma c'è la colomba Ma al tuo cazzo di loadout Ok, che notte, ok, ok Facciamo il vento Andrea, Andrea, Andrea Da sopra la montagna, penso Oh, gioia, gioia Che cazzo fa? Ma c'è la sigla di Dragon Ball? Andiamo sopra la montagna? Facciamo questi? Sì, andiamo sopra la montagna Sai, non sto capendo niente Il mio nome La montagna c'era un filo d'erba Arbitro, il pupazzo, arbitro del merda Ma scettissimo o no? E' andato sotto a destra Eh, figo Sinistra, sinistra Eh, figo Dovrebbe essere, c'era un altro Fumaggela Un altro È figo È tua pelle, è tua Vai, ciccio, vai, ciccio, corre Corri, corre Mi so sparare un colpo Vabbè, è tu, ciccio Ma, nonna, ciccio, si è fruttissimo Oh, non lo è sa, Marco, non lo è sa Marco, chiedi, scusa Meno male, che c'è Vai Scusa Chiedi scusa, sa Dai, sa, vi sta touchcorro Chiedi scusa, Marco Chiedi scusa, sa Ma di che cosa? Eh, di come mi hai trattato prima Resta, lo sa, ciccio, ti prego Sto arrivando la 6 Mi vuoi bene, Marco, mi vuoi bene, no? Mamma mia No, 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 no No, 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 si è proprio un scemo, qui Ma lo fa trovo, cacchio, eh No, ciccio, no, ciccio Ciccio, io mi vendicarei Io mi vendicarei Io mi vendicarei Un abbraccio Allora, ritorniamo in singoletto Per il Savin'Ultra Eh, ragazzi Il res è importante Il res è importante Ragazzi, è così Il res è importante Epico Scena epica Se è vero ma giusto Se è vero ma giusto Se è vero ma giusto Nikonox l'aveva già appena annunciato Nikonox l'aveva già appena annunciato Quit Infatti quando ho letto il messaggio Non lo so, mi era già entrato nella testa Il signor Nikonox Mister, assolutamente no Assolutamente Stai, facciamo una bet? Perché no? Riparo la zoppa Potremmo anche far partire una bet Potremmo anche far partire una bet Allora Mi stanno invitando Mi stanno invitando Chat Che dobbiamo fare, chat, secondo voi? Buonasera ragazzi Dai muoviti Entra Sono scemo Ma fai sempre un babbo Adesso Adesso Il bello è che Cambiando la posizione Degli addendi Il risultato non cambia Oh no raga Non iniziate a rompere il cazzo in chat Che devo chiedere scusa Perché Marco Perché Marco Mi percura sempre E ora non gli sta bene Che io gli ho messo il dito nel culo Non gli sta bene Ciccio Comunque sei troppo suscettibile Ultimamente Ma come le hai messo il dito nel culo? Hai capito? Hai capito? Hai capito che ha detto Che ha detto peccorra zoppa? Che ha detto? Eh, ripetici Sì, sei diventato troppo suscettibile Sì, sei diventato troppo suscettibile E poi devo trovare un scema E chi sta a fianco? Eh, ma pre Marco Eh Puoi chiedere a Vito Lo faccio o non lo faccio? Fallo, fallo, vai Fallo, hai detto Fallo Eh sì Ma perché gli piace La tecnica che Quitta c'è un cheater Eh, ne mango sottra l'assunto Quitta c'è un cheater E che cazzo? E che cazzo? No, bestemian lo stavi? Pare che grazie per ridurci Questi da paramento Bestemian Ma non ti permettere proprio Assolutamente Non ti permettere mai più Scornacchiata Ma che era Sony? Soldato nemico in arrivo Ma lui Perché stanno finito Stai sentito a piano Respiri piano Per non farlo Sì Questo qua Questo mouse qua Sì sì Questa che fai Aspetta che apro una schede Però la bannavi Eh sì Eh, joseph Forse è meglio Non farti bannare Coglione Arrivo con le moto Ora chi entra in azione Tanta usanza No 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 Amici di Maria De Filippi Buonasera Combatterete in prima linea Quindi vorresti incontrarmi Ciccio Oh dimmi Senti ma tu quando sei libro Mangiamo una cosa insieme In questi giorni a pranzo Ok dai contatti amici Mangiamo una cosa Quella giro No No Mettativa Perfetta No Ti inviterei a vedere Il tipo di bet La gente si inventa Ma no Ma ti sto dicendo Che purtroppo La chat Si è rincoglionita Perché non sai Che ho visto Ci ha sapete No Come i coglioni C'è la NASA C'è la NASA Ci ha in casa No no Non lo dico Dopo Posso risultare Antipatico Perché vinco C'è Vito che è costoso Ma lo vuoi Vito Ciao ragazzi Buona serata Buona serata Buona serata Discoteca Ciao Giove VJ Cosa si fa più ridere Chica che va a lavoro O Giove La bottiglia di limoncello 7,50 euro La bottiglia di limoncello 7,50 euro La bottiglia di limoncello C'è comunque 7,50 euro Ha speso Dai ciccio Ha speso 7,50 euro Di bottiglia di limoncello Quanto? 7,50 euro No Non lo posso dire Ma no Non lo posso dire C'è questo è venuto Qua Perché molli Capito In giro C'è Tutto quanto Allora Non mi fai Allora Però Una cosa ti voglio dire Io ti voglio bene Lo sai Io quando vengo da te Quello che ti porto Ti porto Sono cose regalate Col cuore Non vado Non è il prezzo Però è vito No la fumogiona così Non lo vedo Così va a finire E la smoke per far finire Pelle letteralmente Ah è Nala Attento ciccio Nala con le aree Tutto davanti sui betti Dovrà sopravvivere Avevo la stun Ma non avevo accetto Perché ho detto Vabbè Lo facciamo in tre Niente 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 Non mi sono inutile Anche su caldera T'hava clippato Andalo Comunque Pelle non l'aveva neanche Craccato C'è il ram veramente Oh c'è pure lo boss Che svarione boss Che ti sei perso Il quinto del sapi l'ulto Uno qua Boss all'autogrid Quella viva Ma si è schiantato Non è deciso No 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 Ho scappato Sopra di me Sopra di me Sipra Ancora E ci cos'è da me Eri no penne Eri no penne Marco Ma vedi Il grilletto Dove sparare L'hai hitato Forse una volta L'hai hitato una volta Io starei zitto Sono sentito E' scappato E' scappato Che c'era la fumogela Che ha lanciato ciccio E' scappato davanti a me Che cosa vuoi che fai Ma io la fumogela L'hanno lanciata Eh si Ho capito Eh no Ho capito Ho capito E sto dicendo Perché è scappato Ciccio ma è sempre Che c'è la tua tua Eh Eh bravo C'è No no Marco stavolta Ha ragione Vatti a prendere il bulag Eh si si E come è scappato È scappato Ma Che c'è fatto fare Cogione Ma si mette davanti Ho la corona Che devo fare Eh va bene Coronafora Coronafora La 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 Facciamo Facciamo La 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 Qui Qui con Madonna mia Fra Oh Oh boy Non si stai Che Che Sto pelicana Ma te ne puto Ma mattina R in brasil E stat Che Mamma me Ho vinto il rock Ho vinto quello E in open Due contro uno Vabbè Ciccio non ha sparato E stavi Manco lui Incredibile Non è che io non ho sparato Fra Te l'ho Te l'ho craccato Ero a 50 metri Uno scappa Grande team Belle Quattro anni di warzone Fra Non ho ancora imparato A spingere R2 Ma che devo fare io C'è E ci credo Fra Lei giocate Manco disqualificato Ora capisco come Fra E certo Dopo aver giocato con te Fra Ha raggiunto veramente Il punto più basso È normale che ha quitato Cioè che dove fa No Stavo in flammare Tutta Tutta tua città Ma non l'ho fatto Fraga ma quindi Nala dov'era Non lo so Non lo so Ma come hai riuscito Ma come hai scappato Ragazzi Nala Ma come hai fatto A non ucciderlo Ma come hai fatto A non uccidere Accanto a me Era one shot Ma scusa Ma hai sparato Ma ragazzino Sparate Era caccato Era accanto a te Ma come hai scappato Ma hai detto che era caccato Ma hai detto che era guai No 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 Era caccato Era davanti a voi A un metro Un metro No era 50 centimetri Pelle Sì 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 Era lì Era un metro Lui neanche mi ha sparato Capito Non ci siamo sparati a vicenda Abbiamo avuto un accordo bilaterale Capito Pelle Mi sembrava a me Sì 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 Nala che tra l'altro Capito Anche parecchio scarso Non mi ha sparato Io non ho sparato lui Lui non ha sparato me Capito Nala Due seghe sotto i mari Ah Nala Turbo tab È uno dei tene tab Comunque mi sa che la bet Molti stanno impazzendo Perché Ciccio Sta tenendo duro Posso dirlo? Sta tenendo duro Ragazzi Manala Della Filippines Sono morto Oh C'è un'attività di geografia C'è un'attività di geografia C'è un'attività di geografia C'è un'attività raga Oh mio dio Oh mio dio Sì Stai un'attività di cheat C'è una carica da carriera Scurna 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 No c'è felpa in chat Vuoi dire qualcosa Keegan No Basta Esci Keegan Qual è la capitale Dell'Urddikstan Puoi rispondere anche te Ciccio Ma non sapete Grazie mille per il 19 visita per me Tu parla banu Alla capitale dell'Urddikstan Dai è abbastanza famosissimo Sì è in tutto il mondo Come guarda il Turkmenistan Ma l'Ubos 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 Ma il boss è andato a fare Serata a Rizzone C'è Non ho scritto qua Flame Ciccio Che voce c'ha È sempre svegliato No stasera non parli così tu però Di solito Ma che è successo Che sta succedendo Eh Tutta cosa Eh boss qua Si viene maltrattato da Savioltre I boss hanno svegliato Cioè E letteralmente in 30 minuti Boss è successo Più in 30 minuti Che in tutta la mia vita Raga ma io stavo dormendo Ma hanno svegliato Eh Bado cucca No no Cosa vuol dire S'hanno svegliato Tutta cucca Ma M'hanno chiamato M'hanno chiamato il moderatore L'hanno detto Vedi che Ciccio sta facendo Un cazzo Da Come si chiama Quello di Bari Dall'ubarese Dall'ubarese Belle forza Buonanotte Buonanotte Ma forza Sono soldi No ce l'ho morto Sono morto qua Bravo 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 Ma dai Wansh Dai Vaffanculo Tutti sparsi per terra Siamo morto Notte boss Ma si vede Vaffanculo Mord Abbiamo andato a bene Rischieramento meritato Soldato Preparati a rientrare Che è successo Vaffanculo Ciccio Ma è Ciccio che mi ha tridato Io te ho salvato Bravo Bravo Per salvare Comunque son morto Vaffanculo Nel senso che Vabbè Cioè ho capito Comunque Ho capito Quello che volevi chiederti Non ci sta mai bene niente Lui Lui ha vinto Le vocire E io giuind La giuindata Coppa Romagnola Bravo Sì Robo Sì Sì Falli 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 Sì Ciccio Sono il nukeboy No Al posto di starboy Sei il nukeboy I'm a motherfucking nukeboy Non fare quella versione lì Con Ciccio Andiamo a Ciccio Tutti i compagni sono nella zona di cura I'm a motherfucking nukeboy No son pazzo Ma non lo dico Pazzo che è gesù No tollevamo si betti No Salmo Salmo No tofra Guarda qua Sì La zip Full depenestrata Qua chi te Mordi Sono morto Sicur Nude Merda Ho giocato da te la pelle ancora? Non so, ero vatti due ma sento quasi qualcuno andrò Ah il kit gulag non ho preso, cos'è? C'era? Preso. Preso. Esprimi in centimetro le dimensioni del maestro. Quattro. Dove che minchia stava brutte triglie che non siete a? Sono sull'altro quello più grande, su quello più grande. Ah, allora, niente. Sì, ragazzi, i gulag vanno fatti. Vabbè, tanto non penso morirò da, eh. Ma chi lo sa? Sì, sì, te lo sa. Aspetto il giorno che succederà e farò la clip del secolo. Ah, ieri ho detto tipo... Oh, ci sono savi ultras mentre era in volo. Pippa. Sì, sì. Uno mi ha cecchinato, ieri sa, un singolo. Mi lento addosso lui, lo uccido, gli dico questa è la fine che fanno le seghe. Appena mi scordi la parola, morto da un cecchino. In quell'istante. Questa è la fine che fa le seghe, cecchino. Aspetta, lo meriti dopo un commento così volgare. Vero, vero. Ma questi... Sì, è sempre scurrile. Mi rischio, lei c'è in bocca, io. Ma chi è? No! In open! Bravo, è morto, è morto, è morto, è morto. Taccato, taccato! Allora, lui sotto. È morto quello. No, quello è one. Trovi settaggi del controller sul mio video YouTube punto schematino settings. Ciao a tutti ragazzi, buonasera a tutti quanti. Salve la mano? No, è più vicino. No, l'uomo nel bagno, è il beast. Il bagnante. Sono lì eh. Ah, sono morto. La zona sicura. No, è molto più atentena. Tove tre pelliz heures, la vede, ma qua, lo sapevo, lo disegni qua. Siamo qua, l'ai buttato. Sta bene questo, via! il giro che a fianco tu comunque sai no oh 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 Diccio che tu ci sei capito No Ogni volta mi deve ricaricare il cecchino Avete un flare o qualcosa? No Sono restato pippa Non ci credo Ma fa che la betta l'avevi fatto per te, vero? No Vabbè, quello ci ha visto la betta Sta letteralmente Sta letteralmente giocando Stiamo ero uscito Sto giocando per la betta Ok, la betta, ti muore di più Eh no, vabbè Ho fatto la betta contro l'inno L'angelo di equipaggiamento alleato Vito, ho visto la scatola giudicato Ma che c'è l'ancontenticio? Questa sera Chi è? E' lì E' lì Minta dopo paga i ragazzi C'era gente prima C'era gente prima fra ma come aspetto però dai ma come si fa ma guarda ma no vabbè ragazzi però siete vergogno madonna siete una vergogna siete siete una vergogna siete fate vomitare fate accamperare mezz'ora sullo da ma come si fa ma che vergogna questo ma pelle sta giocando le war series che sta fermo qua da mezz'ora ma vai insieme a ciccio che ha rissato piuttosto invece di stare qua a fermo non fare niente cioè mamma mia c'è un piei usano il piei fra poi siamo sei volte colpa mia morte sono morto sei volte perché che devo fare devo venire da te e stare con l'arma base male che vado a prendere le mie armi ho fatto sei kill la io sei eh si si sopra sul tetto ci credo che le hai fatte sei no no sul tetto hai fatti lontani che devo fare vado dai nemici comunque ho fatto uno sopra stavi? vuoi provare a pusharli? no vabbè no vabbè provo vabbè ci sono tutti qua ci sono tutti qua si si rimane giù palestra c'è tutti il reteam sopra ah no ci sono tutti qua ci sono armi lì io non mezzo io non mezzo miagra ha arrestato altri sapi altri guarda sopra è uscito deve uscire devo buttarsi che cazzo Come si è buttato dentro di voi? Ah l'altro sopra il testo Ok Ok Vuoi provare? Veda 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 Dentro, dentro pelle Ah, dentro, due, due, due Uno, aspetta Guarda dove cazzo Gassi in avvicinamento Nuova zona sicura C'è un'arma per scelta Due cavolecchi che vuoi bisogni Fuori, eh, inedicni Ci palle, davanti e beh La zona sicura è piuttosto lontana Ragazzi una mossa Ah ci va, frappe Dobbiamo andare da dietro Ciccio, ciccio, vieni da me La faccio una da solo, faccio una da solo qua Mi giro di sotto a sinistra, mi sa Sotto a sinistra? Sì Sopra, tetto tre Non sono male Io ho il tetto, il tetto Il tetto l'ho fatto Sotto a sotto C'è full a me, sotto a destra Sotto a destra Elimino Oh, è troppo, è troppo One shot, pelle, è quello che si spara One shot Sono due Atterra quella, atterra quello One shot, questo qui, one shot Questo qui, c'ho un pelle, pelle One shot, fuori safe L'altro è un flyer, eh Let's go baby Andiamo Ciccio Ciccio, ragazzi Una partita meritata Posso dirlo? Cazzo è successo? Meritata questa partita 25, 20, 30? Madonna, ciccio 25, 30 bombe, eh? Ah, ah, non, non Sì Ok, complimenti a chi ha votato due, ragazzi Siete veramente degli intentitori Intentitore Io ci credevo Beh, e allora ha vinto l'Under Ha vinto l'Under Ha vinto l'Under Accetto, equipa Con Marco avete votato over, ragazzi Overkill ha fatto, ciccio L'hanno votato per me Salvemo le partite, ragazzi Ragazzi, è il bosche russo Se state zitti un secondo Si mette il bosche russo Frama sta russando Sta russando Ma è in discord? Sì Fai vedere No, è vero Sì, sì, sì Sì, sì, sì Ma che è lui? Vedi che diventa verde Fa sta russando Senti Audio ragazzi, eh Lo già muo, eh Audio, audio Non respira più E porta il po' No Ma non ti metti di russare Cioè, di russare in live Siamo in live noi Ma l'hai chiamato? Ma perché non Ma come è live? Boh Ma sei su Discord Stai russando Ma lo sta chiamando Ma l'ha chiamato Mi sa che il Discord al cellulare Non si sente che parla Ma è vero Ma perché non parla? Perché sta su Ma ragazzi Ma che voi stavate giocando Il volume è a 200 Anch'io ho messo 200 Per sentirlo Stavate giocando Ma c'era L'endgame Ogni tanto si sentiva Ma l'ha russato, sì Ma io pure Io pensavo che fossi Tipo tuo No, no Che stavate scherzando Ma vi ho detto Guarda qui Che cazzo sta facendo Mentre lui Ma tipo nel l'endgame Ma ha buttato Preparatevi Adesso si fa sul serio Ma c'è un casino Che ho proprio fatto Una scrofa No No L'altro dice che è morto L'altro dice che è una scrofa Domani il boss I boss A cogliere il boss Pasqua La prima Pasqua In onore del boss Quando si alza Pecorazoppa Ragazzi E' sempre un No Le mo' esce Che Abbiamo il piede libera Warzone vi aspetta E aprirà E tirà qua chiusa I nemici saranno ovunque Le occasioni di scontro non mancherà Andami al di te Oh ma Ciccio Ciccio quante volte resti stavi sta partita Madò Che pippone Ragazzi Che pippone Ciccio te l'hanno fatto un'altra betta Ma hai svegliato poi il posto? Marca un punto di lancio per la Sì sì Hai svegliato Ciccio Contratto prioritario disponibile Ah vabbè qua È qua ragazzi Praticamente Ci butto tutte le mie trighe Sul sì? E certo E anche perché sul no non puoi Perché sarebbe Cicciopoli Diciamo No Cicciopoli Ma che c***o Ma che c***o Ciccio 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 Puoi ingaggiare tutti i versanti Il tuo alleato è un bestaglio ricercato Uccidi semplici Prendi cazze di scorte Per contribuire a togliere No ma io adesso Cioè Praticamente tolgo il follower Ma non l'ho messo Non l'ho fatta io la betta Non la faccio io la betta Cì Un altro Un altro sopra Cacca 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 All'amico suo Eh non avevo più colpi Giacchino Lama d'oskola È crescato eh Ha messo il drone Oh veramente Oh c***o Tagliani è Ciro di Marzio Attento Altro? Sì sì l'altro è sotto la tenna Ah ok Va via Ok watch it watch it watch it Un colpo Ciao guano Ho fatto adesso Tu ho visto Dove dire c'hai dieci colpi Questo ha preso la corda Ma l'hai vinto tu Ci c'è il gulag No No ha preso la corda E non Vabbè Ma scusa come è possibile E come è possibile Quando fai la corona Devi portarti per forza in vita Ti porta in vita anche quando sei dentro Eh è vero è vero è vero Come è successo con un timing così strano Perché si aveva tipo Quelle frangenti in cui Prende la corda Ma c'è ancora nel gulag Eh ho capito Dovrebbe uscire in ogni caso Dovrebbe uscire in ogni caso Che comunque Che sfiga di timing Che sfiga di timing No please don't kill me Please don't kill me Tu sei matrimo cuffia Io quello accanto a me Pecco la zoppona Fai lo daus Pro un up guy Grazie per i 6 miss Te premetto per la pro un up Grazie mille Si, non ti arrabbia però Ciccio È un torneo? Si, è il Ciccio's Invitation che stiamo giocando Il Papa Santo Invitation? Si, sono invito Ma era anche la sala di credito che l'hanno cito prima? Si, a destra Sono ancora qua fermi, immobili? No, non era male comunque lui Gigi Gigi Oh, sa, ma quella colla perché mi avevi detto? Ah, eh, fra, eh, sto aspettando che che mi rispondino Cioè, che mi rispondi, che mi mandirò il il link Guarda Il link te l'hanno mandato però non è a ti No, è praticamente È il Niccolo che l'ho ucciso? Ah, sono morto Scusi Tanto di equipaggiamento alleati Oh, mi ero da adesso, te lo bello? Oh, adesso Eh, la finestra, la finestra, la finestra da me Ciao Chiudi o non sono te? eh Si lasse, si lasse, si lasse, si lasse Simo Simo Ma come devo rispondere alla domanda di calcio Secondo voi Ma quanto Ma Pelle quanto è forte secondo te Sincero Cosa devo dire E' tipo i terremoti E' la scala Richter E' capito Il livello è a 4,5 Io sono al top Da una a 50 Penso che Pelle lo dimostri da sé quanto è forte Bravo Mi piace questa risposta Mi chiedere a Giuseppe e via Ecco il passato Sì, sì C'è gente c'è? No, no Vai vai ci ha fatto sta kill Aspetta qua là Aspetta Bravo ci Zitte Eh ma ne vende fuori Non sai che era macchia Volevo fare la moto finale Era un bel bot Vabbè Volevamo a moto finale Invece non è andato Ragazzi Io vi saluti No, no, no No, sì che non è andato Che è successo Sta rientro Ma è tutto qui rientro? Quante rientro? Non si dimentica di salutare Keegan Ciao Keegan Ti ricorderemo per quello che sei stato Facciamo il Keegan Memorial Sì, Keegan Invitation Ciccio ciccio pappa Lo possiamo fare Raulino Gamer Ciccio recap Ciccio recap Ciccio Ciccio Andiamo alla taglia Ah non so ne crede fosse Raulino Gamer Dai prendi ballone Andrea grazie per l'abbonamento Andrea Grande, Andre Grande coraggio Grande? No, grazie Come grande coraggio? No Dio ma si sciò Dio Ciccio No Dio ma tu c'è Glammi troppo Glammi troppo Ma vedi ma c'è Ma quanto li hai fatto spendere La sua socia Ciccio? Ma che cazzo ha fatto spendere? Si è arrabbiato Dio c'è Ma che non lo ha spedendo troppo Eh Così si sta vendicando Dio ma io non gli spese niente No ma io gli spese Meno male che io Non lo faccio spendere tanto Eh passate Che cacchino Che cosa Che cosa Che possono mettarti in colpa Sono morto Sono morto Sono morto Sono morto Antonio mia pelle Non ci credo Che sei morto Sono morto Quando gioco col cecchino Perché poi hai detto che Ho detto vabbè dai Non vado Poi ho detto vabbè No vabbè In realtà hai fatto bene Cioè Facevi bene Se non venivo Era giusto che morivo Sì Stai sparando col cecchino Per trollarvi Vabbè Ciccio Mi bussano in tre Si tre figli di una mignotta Su I tre moschettini Una terra pelle Una terra Una terra No 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 Però vedi Perché mi finiscono Mi finiscono i colpi Dell'HRM Ferò ogni volta Il gatto è sempre più vicino Ci credo che l'avevo Craccato pure l'altro No erano tutti e tre Tutti e tre terra Beh si è restato davanti a me Si è restato davanti a me È il rest Veramente? Si 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 è restato Perché avevo l'HR Si è restato Mi ha ucciso Ressami Aless Ress Non ci posso credere Che palla C'è anche un elicotterone Ma comunque Grazie a tutti Gigi a lui Sì Cosa c'è? Che mannaggia Sì 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 Ma lo stai l'elicotterone Che pazzino Ma quello muovà Benzina qua? Si Ho trovato un javelin Minchia è vero Ci salvate la giornata Ci salvate la giornata E la serata Colpila C'è un javelin Mi sa che fa ancora più danno Che mi sa che è bello difficile trovare Tu ci c'è? È un colpo ci c'è? Eh sono tre Mi sa che sono pure bravini Ok Un è craccato Un è qua tipo Il nero È lanciato un grappolo Un PA Dai Ti ha sparato col cecchino Qua sembra un cat Da terra Tipo Mi sa sparando Sa? Ho fatto Una donna Mi ha attaccato a lui Ah rientra Buona buona Bel teamwork ragazzi Bravi bravi bravo Ci c'è Sono qua C'è ancora Webinar coin No Mancava Non stava parlando Da troppo tempo Cucciolo Siamo qua Ci rivediamo Minchia Che pippa di merda Che sono Un altro sai? Sì sono due Sì sono due Qua stiamo C'è la ciccia E c'è tua Ma che è successo Scusate Ma non l'ha usciso Ciccio Avevo visto Ciccio Papacan kill Beh Secondo me Ciccio Si è bettato contro Come? Secondo me Ciccio Si è bettato contro Eh infatti No Cicciopoli Poi Ciccio No ho buttato 133.3 E dopo vogliamo Vedere Devi scriver messaggi in chat Vediamo se hai messo Under o Over Ha messo Over Ha messo Over Ha messo Over 3.5 No scusate 4 arrivo 4 bomba Ma è una gabbetta Ti ricordo Ma è una gabbetta Vabbè il senso Ma non l'ho fatta io La fa pecora al stop accanto Ma mica la faccio E allora perché se non ha l'elettrica Cazzo è male da fare Sì Aveva Over 3.5 O 4 La stessa cosa Over 3.5 Sì sì No era No 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 Non vale Devi giocare l'autopartita No se no Se no è tutto buggato Era maxi Facciamo fare le kill A me non l'ha calcolata Vaffanculo Ma non è che è buggato Con bugga Qua ti sei fregato Poi per la kill Non ti cercano più Gli hai seminati Ci ciopoli E c'è la seconda che si romociccio Mi spiace No se lo sapete Uno ma prende Il fulafone La prende ora Come fare flyer Il flyer No no vabbè Il colpo Uno sa che è sul monumento qua Le rovine E mo la push Non mi servirà a favore Ok Lo solo mi sembra Lo faccio Lo faccio Ma no 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 Sono morto No sono morto Questo ci resta No way Oddio Peccato E non La pippa La pippa La pippa La ucciso Uno da sotto A destra Dalle case Dalle case Tipo col cecchino Quella è verso Dove sta il ballon Sì Questa grande Grazie a fatto Non ti sono peso Bravi Arriva Arriva Sono due No mi regrappolo L'ho messo a terra L'ho messo a terra Si resta Si resta Si resta C'è rimasto qualcosa C'è rimasto qualcosa C'è rimasto qualcosa C'è rimasto qualcosa Si vedete sulla montagna C'era gente Sa Ci sono 24 Enemiti Il male è che non ho Pugito full contento Non muovo anch'io Stavo impazzato No che poi è morto anche lui Con la sua grappola Diciamo Deja vu Deja vu Deja vu C'è la gente la sopra C'è la gente la sopra C'è la gente la sopra Contratto taglia revocato C'è il terreno Muovetevi Ci sono nemici Si stai cadendo qua Possiamo cattare anche C'è da sinistra Pelle Se vuoi cattare Altrimenti Vuoi cattare All'altro la save è veloce Ma arrivano Io sono andato verso il fondo Un è fermo Stai lì Ah Non è vero 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 Eh si Finche Sono buttati lì Crossano Crossano Non li cattiamo In tempo Carcato Eh beh Fatto fatto quello sopra Intanto Devi finirlo Intanto è un colpo Ma finito fatto fatto Oh ma c'è un buco qua nel ponte Ma vai ti ci cittai Sotto Sono almeno due o tre Bravo Ciccio Hai caccatoci Mi servono Mi servono Mi notate Sono tre ciccio Sotto hai Sono a terra Perché ci c'è un po' Tutto Ecco Vai 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 Ci c'è Ah Sotto Ciao Ciao Ma non c'è un po' Tu Chi Mi servono No Ci c'è un po' Ci c'è un po' A sinistra Anche sopra Qui qui Ci c'è un po' Ci c'è un po' Ci c'è un po' Campe da qua Ah no 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 Sta camperando qua so E' più di gente E' il comandante Andai flare Per restare il ciccio Shop No Non ci sono No il fler ce l'aveva Anche sopra di me Sopra Sì sì Close Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' E' muore Chi te muore C'è un altro Sì sì Mi sa di sì Davanti a noi Non lo so Vabbè me ne abbiamo Volevo vedere se c'è un elicottero Siamo 5 e 8 Siamo pochissime persone Sono tutti Tutti singoli tipo Mi mirano Eh dai L'elicottero Che devo fa' Staccato uno Ce l'ho ce l'ho ce l'ho Dammi il flare Oddio Ciccio Ciccio Torna Ciccio ti prego Sopra i tepe No no Si sono fermati sull'autostrada Oh fuck Ti ho visto da dove? Mi sono andato a pusciare Non so se mi hai visto Ma questo Terra uno sopra Bravo Due terra No Non ci credo Sa Non ci credo Tanto deve finire la benzina Tanto deve finire la benzina fra Uscitiamo prima il singolo fra Doveve stare un singolo attorno Sparate 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 Non ho colpi Non ho colpi Ho cassa di muni Sparate Sparate Eh siamo a tre v3 aspettiti qua e mira solamente basta stare così ragazzi ma come avete fatto a morire ma mettiti sotto fra non mi metti metterino per come un coglione ma come fai a stare sopra ero sul ponte grazie al cazzo sul ponte in open croglione sono andate due semtex insieme è certo che sono andate due semtex ma pure se stanno con le semtex andano con un cecchino come cazzo fai a uccide cioè come fai a stare in open stavo scendendo no sei sceso quando hai visto che eri one shot no stavo scavalcando mi hai dato una nade ma mi hai su one shot stavo scavalcando mi hai dato una nade ma mi hai su one shot ma sei rimasto almeno 20 secondi sopra quel ponte eh ho finito i colpi di piccoli e stavo scendendo sì c'è questo 20 secondi se guardi il mio voto il termine è stato perfetto stavo scendendo doppia nade infatti perché sono sceso perché lo stavo scavalcando per scendere i ragazzi sembrano gianni e pinotto ma ci puoi bagnare a scusare il bruco messi due a terra se quello è scappato via con un ma quant'è veloce poi quel coso vado a fare una partita ragazzoli un secondo io invece fugo non proseguo ciao 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 e buonanotte un secondo come ti permette di stare dormendo io sto qua sotto io mi spiace ciccio hai perso la betta sono impazzito mannaggia a me non mi ha fatto votare meno male perché avrei perso eh sì sopra e dillo che sento arriva ragazzi mi sto facendo fammi fare una partita fammi fare una partita dimmelo che stacco la partita sono ah ok no vabbè non ci penso è perché nella live di Marco c'era la cosa del pagamento della betta poi c'era non so che cazzo scrivo davanti mi sa discord eccoci qua ragazzi buonasera a tutti quanti buonasera allora allora siamo arrivati vicino alla win questa volta ragazzi ma adesso dobbiamo scrivere la storia adesso dobbiamo vincere perché è arrivato direttamente dalla torre di babene di dragon ball con i fagioli di balsar i fagioli è un prosciutto nel culo e il supremo bastano i fagioli per il culo l'uso Pedro e mentre mettiamo una musica alquanto maie mitica direttamente dal live di Miami dalle fontaine le blu e i tis 27 mesi di abbonamento fuori grazie ragazzi grazie a tutti grazie a tutti per il supporto alla live del Savir Ultron è tutto grazie agli squali che siamo qui squali allora adesso insieme andiamo a vincere questa partita c'è una bella bet win 20 bombe ve le sparo tutte 20 bombe voi 20 bombe o 20 bombe win una bet che dice una bet che bet si può fare 20 bombe o la rampa what's popping what's popping andiamo lì ragazzi dove tutto è benizio e dove tutto finirà cargo de pari oh grazie mille Anonymous per i bits grazie mille Anonymous il bombolone i bits dell'Anonimo solo che paura che paura che paura che paura amico in arrivo nell'area bersagliativi facciamoli fuori c'è una terra c'è una terra lì dentro nella stanzetta hai avuto due tornare in azione tre morti questo ha detto comes quindi starà fermo è fermo nell'angolo tipo sa eh da ciccio da ciccio è tuo ciccio e c'è come mai hanno le perché aveva l'arma ma che cazzo ne faccio la pistola ah no è tua nel senso che ce l'hai tu io ero lontano ho provato anche era lontanissima arrivavo eh sì io la stiamo una e ciccio qua è tutto chiuso poi stavano già su rebert è la roccaforte quella zizzo che devi di fare che devi fare che devi di dodge no ti hai riusciso lui andiamo verso sinistra lo shop il fatto che finisco il giacallo del corona c'è 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 2 2 0 così buon chill c'ho anche lo shop portatile poi c'è c'è anche il gettone gulag ciccio quando ritorni dalla cassa ok c'è ci c'è 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 ci paura ha fatto lo can�� casa dama lontano no vanno fattori l'ultimo mannaggia fatto un piccione fatto sopra la casa sopra si sopra sopra fatto fatto ci ce l'ho fatto sta per chiudere sta per chiudere andrà la taglia facciamo dall'altra parte qua c'è gente per l'ho visto solo uno per ora trappolo si di me trappolo era quello che ho ucciso prima in the low town vogliamo andare ho l'ordimo a sbaccare quella merda di povero cazzo di equipaggiamento per voi a lot out super 2 stanno tutti qua tre persone lì tre persone lì ragazzi uno a terra dai ma questo campionato qua dentro bomba bomba perfetta vabbè vabbè c'è il gulag c'è il gulag non ti preoccupare facciamolo ci e torniamo là buona 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 preparati a rientrare lo compagno è stato battuto e sta tornando alla base la sua squadra ha raggiunto la zona sicura Eh raga dovete restare Ciccio Oh c'è un carrello già E guarda loro dove stanno Ci stanno accanto allo shop Devo sprecarlo ma scusami Ciccio E che cacchio E che cacchio E che cacchio Ciccio E che cavolo Tre persone davanti a me Va va tranquillo Mi faccio Mi faccio Mi faccio Mille persone Mille Non so se stai da là Lo stronzo è scappato Oltre ancora il camion Dove c'è chi lo svederà? Qui La donna mia A terra uno No Qua c'è la carrella di spara Stanno due timbri È accanto quella a destra È accanto quella a destra Questo qua dove è sbagliato secondo voi ragazzi Questo aveva la chini proprio in punto Questo doveva pusharmi davanti Io dovevo uscire Io dovevo uscire Invece sei andato sopra a destra Ha perso la visuale No cazzo C'è perché perdere la visuale? Ha letteralmente fatto la giocata giusta Di lanciare la granata Io mi dovevo muovere Mi ravi E io ero morto Sfaccato questa La trovo Belle 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 Vedi due 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 E c'è la miseria No c'è No 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 Belle golle E' nuovo il filo Oh 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 E' dentro E' dentro uno Skinno bianco Ok 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 serve una ricognizione aerea si 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 tranquillo non c'è più la minaccia tonta adesso ando via con i balloni sei tenuto e sei attenzione no se no vado da manco vai da manco gatti in avvicinamento ecco dove li ho ammazzati qua no? si si li ho ammazzati parecchi la sotto è una buona lobby pelle eh si si spingiamo spingiamo vabbè vabbè forse ho visto solamente le mie kill vado qua tanti io porco il dossido ah questi sono bravi si ah si si sono bravi questi vado diritto quelli che non c'è arriva arriva la semana non sono la taglia? si ah ci c'è arriva 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 una terra ah vai un 4 un 4 ho fatto due donne due per tagli taglia dei frutti lavoro eccellente sei con me? ah vabbè forse me li faccio attenzione c'è un attenzione apri il mando guarda dove cazzo fai guarda dove cazzo fai ci viene la concecchina prendi la taglia ci puoi ci puoi ci vedi? no da zero sto spusciando ma signor redzonico c'è amaro fantasma la taglia c'è amaro fantasma sono 4 vitessa sono 4 vitessa c'è un colpo c'è un colpo c'è un colpo dai 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 l'unico che ha perso di vita ottimo lavoro così è spunnato ha spunnato me ma si è spunnato anche lui arriva in gas marco la nuova zona sicura sono morti tutti no c'è uno c'è un altro c'è uno schingaia dentro dentro casa anche a scena belle visione imminente richiedo ricognizione aerea 4 team vincolo c'è lì no 3 marco Come mai ci hai messo così tanto? Sono arrivato con il pallone No, c'è il gulag, c'è il gulag Se te li beti un po' arrivo Crackato uno Atterra uno per le Quanti ne hai fatti, Pelle? I due, i due, questo è il secondo Io ne ho fatto una in terra Ma non me l'ho confirmato ancora Uno dovrebbe stare esatto qui Crackato questo? Un colpo quello? Uno dietro l'antenna, in teoria, o dentro la casa Non ci credo, era costato qua da me Avete flare? Da me, da me, da me Non avete flare? Per schieramento, per schieramento, lo butto io Crackato, è arresto Ma adesso è una pelle, 2 e 1 Venite da me, venite da me Tornerai in azione Ma porco Prendete il ballone, venite qua Io sono safe No, muoio, muoio Marco Stanno qua sotto Salgono Stanno salendo, sta salendo Stanno qua Stanno qua E su qua Che ti muoere Stanno qua Stanno qua Stanno qua Ho capito Sono le uniche scale quelle Sono le uniche scale quelle Stanno giocando le scade Marco Ah no Eh, no, 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 no Che ne so che sta salendo l'altro Non ti senti? Infatti, non si sentite la scala Eh, non fate Che cazzo ne so Quello l'ho fatto E' aperto quello saldo? Si, si, si Tre Forse no Buona, buona, ce la fai, dovresti farci Ce la fai? Si Ce la fai anche io Attenzione, alcuni compagni non sono nella zona sicura Destruggi i balloni, ciccia Bravo Non abbiamo muni, però Crackato uno Com'è l'oddy? Prendibile? Ascara uno No, madre cazza, è l'adaut Pusciamoli, pusciamoli No, raga Sì, tu ti ci resta, mi chiedevi Tra uno Non ho più piastre Certo che bene mi uccido uno, eh Eh, però prenderlo d'altro Avete piastre, eh? Piastre? No, già Vabbè, vabbè, certo Mi scappando Cazzo, ne avevo fatto uno, vaffanculo Non c'ho manco munizioni No, raga, ma sparono a me Quanto persone? Dov'è? Ho zero colpi Ho zero colpi Ho zero colpi Poi non posso sparare Devo andare in safe Ho zero colpi proprio Ci piccheranno quel po' Sì, vieni con la fumata Bella, bella, bella Mi sento dentro casa? Sì, avete una play se no, eh? No Qua c'è un po' di loot qua fuori Oh mio Dio, qua dentro Forse esce No, vabbè, vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Saremo? Arrivo con te, penne La trascuadra è nella zona sicura Sembra fai sopra, eh? Savi, dietro la montagna qua? Quei bravi, mi sta Un attimo, un colpo Sì, due lui Quelli bravi, eh? No, rataio, dei mortacci Traio dentro, vabbè, buttavo la ricarica Terra Trasnisco Traccato Uno è one shot Uno l'ha salvificato Oh, mi ha fatto un grappolo, mi ha fatto il grappolo Scendete, scendete, ragazzi Scendete, scendete Due a terra, due a terra Uno, uno solo in vita è rimasto Uno a terra di nuovo Di qua, di qua, di qua, di qua Hai piastra in più? No In casa, mi sa Un colpo Uno Tu, 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 farei una maglia No No Non so Trappolo Caramità na kill Abbiamo Mino di centro Davanti Da Un attimo Un attimo Un attimo Il grappolo Da Se 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 Scegno Il Fil Fil E sono 20 Alive Eh, poi questi Sono in safe Dentro La casa Rotta Mi ha ammirato Ah fuck Neidano, neidano, neidano Non sono dove, da casa A terra una casa rossa Z mi mirano Casa rossa l'ho atterrato uno Sotto uno E poi non c'è bisogno, non c'è bisogno Oddio Ho trovato la nade Vabbè Staccato uno secondo piano Salendo sai Eh ma non c'è bisogno La save dalla nostra Passi l'istaglio Staccato quasi Uno un colpo, uno un colpo Uno è un colpo Staccato da noi Marco sta per attraversare Quello è sceso Uno è sceso sinistra Per capo Sopra sopra raga Lancia una sertex An extensi Un colpo 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 Di Loyal Siamo 4 di 3, non so dove siamo Flyer, flyer Tutti? Abbastanza Abbastanza, ok ho visto Sopra là, è terra? Sì, sì, è terra uno Scusa, scopiti, piantiamo Su Ciccio le fa Ciccio il pappacena Bella partita, va buono canestro Marco scusami, però prima lì Io sono girato di spalle, il tempo di girarmi Ero one shot anch'io L'ho messo in shot due Sopra quella benzina di merda Per restarti subito Era inevitabile che Però purtroppo Vabbè, l'hai trovato Cosa? Ce l'hai provato, scusa, che colpa avevi? Eh no, vabbè, sono stato un coglione Mi dovevo girare Però non ho fatto post Cioè nel senso, ero senza piastro No, hai fatto posto, Pedro? Mi hai fatto morire apposta? No, ero senza piastro Quindi mi ha, un colpo mi ha dato Quando l'ho chiamato Marco Hai fatto morire? Hai fatto morire Marco? Un po' sotto tono ragazzi Sì, l'avevo detto Avevo detto 20 kill e win Però qua è stata una 20 bomba Che meritavo 30 Meritavo 30 Meritavo 30 Meritavo 30 24 da tipo da Ma hai visto quante persone ha messo il fratello? Ma hai dato la kill 12.000 di tank Chi è affianco a me? Il mio fratello ragazzi Savino Il vero Savino The real one The real Savi Volevo partire ragazzi The real Stai cercando Savi Ah sta cercando Ok Hai bugato Tranquillo eh Bugato a tema Ho agitato Savi comunque se sei la ciccio eh No Si te l'hai capito Come Come l'ho fatto morire Sei dato una gamma Ha visto? Ho abbassato un po' la crista Hai visto che lo agita? Che poi non poteva tenere diciamo Cosa vuoi detto? Cicci Io ho visto che adesso La startata ciccio Ah adesso la startata ciccio Prima non ce l'aveva No no C'era bugata C'è tutto bugata A bar Non c'è tipo Le cuffie Vito deve comprare un doppio jack Di uscita Però quello non lo comprerà mai Grazie per la sabra No No demanderà con Marco sicuramente Vicini vicini? No no Per il hotel Vito Cap to cap? Però staremmo scomodo Non ti ho postato Ma domani metto ai ripam No No Non mi va in ripam però partite è vero che devono uscire il video però per fare vlog però da facebook non c'è modo per farla no ragazzi è peccora zoppa anche peccora zoppa viene a samsara sabato partita sabato sabato alle 4 e mezza sabato alle 4 e mezza arriviamo alle 9 e alle 9 a riccione che facciamo sabato sera per le io arrivo domenica ah perfetto vabbè allora sabato sera ma fare un cacchio ma ci sono anche chica nel loro si si non sto scherzando vabbè andiamo a mangiare una ro calma mi riposerò la domenica mattina o su pedro io potrei essere a lecce martedì ma ma scusami e poi che fai pelle ma si streamo a casa del boss martedì a un paio di giorni poi quando torniamo da riccione forse viene con il boss e va a casa del boss a streamare non so perché ma me l'ha chiesto lui ho capito e poi come torni cioè quando torni prendono un aereo vabbè a brindisi a brindisi per forza che devo fare adesso vedo vedo se io scusami vedo poi i brindisi mi hanno il penzo e stai vicino a casa si ma a casa del boss mica ti metti a dormire a casa del boss cazzo ne so no il boss già so già so gli fitta una bella stanzetta in un'uote il boss mi chiama oggi il boss mi chiama io non gli ho risposto che stavo mangiando lo richiamo quando è che viene a san marino e ho detto eh ecco se poi quando torniamo quando torno martedì il 2 andiamo a in salino e ho detto vabbè vediamo adesso mi chiedo che escollerà anche il suleber se non posso stimarle non non riesce a vivere ah beh no voglio non stimare le piacere anche il suleber in ultimo se vive solo di code 2 di code ci c'ho cosa è una vita raga che va code è una vita qua ragazzi cassa di cazzi cassa prego cassa di cazzi si è fiamato subito ciccio coloso bet attiva uooi bet attiva signori fatela la per ciccio tuttora grazie per i 100 bits bella ciccio grazie mille io volevo bettare io sì don ciccio guarda tra pochissimo inizio e proverò delle cuffie nuove possiamo dirlo vi faccio sapere don ciccio va bene rimani qualche un'altra settimanella così e poi vi dico cosa ne penso delle cuffie che proverò a brevissimo in realtà pochi passi ne hanno migliorati parecchio sono top però eh sono top top attivano per domani allora punto schermativo cuffia ti prendi quello dalle astro diciamo abbiamo il lodi ragazzi eh ztonni sono fascia alta come che proverò i sui 260 che da sposati c'ho vabbè c'ho un altro matrimone su di meglio calibro stazione di acquisto mobile pronta c'è uno a terra a terra a terra a terra facciamo lo doubt mi servono colpi di meglio c'è un flyer a che ora devi lasciare la macchina domani macchina allora a posto com'è e si andiamo e dopo di mattina il barbiere di si per quanto per lecce mezza ah sai si deve far bello per i sensari ragazzi fino alle 11 su un quarto fino alle 11 su un quarto ce l'ho ce l'ho ce l'ho trovato bello per i sensari brutto forco aeroporto ma hertz 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 ma ti farò pagare una fee perché lo lasciano nella realtà quanto costa giusto prendo 40 quanto vabbè vabbè 30 40 vabbè 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 dove cazze non so dove cazzo è andato dove cazzo è andato e se va caraici buonasera e grazie mille per i quiz tronici un ringraziamento ancora speciale per stanotte il vostro squalo notturno grazie ho scassato ti guido per il mio sito per la scassata l'ara 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 sotto il ponte è a ricciole ma vedi poi c'è il pellicano e poi piangi vanno via no no ho fatto male cazzo la mano sobravi per ospo muovetevi muoio la trascuarta è la zona sicura adegu dove cazzo è andato dicio è qua e da me marco non lo rispondo un colpo non lo sparo non lo sparo vado vado ci sono voluto lo vediamo ciccio vai andiamo con le bippe lì bu faccio il giro non c'è nessuno da loro non c'è nessuno ciccio ma tu ti torno che è la lobby vuota però qua stai ciotto l'uwey l'uwey mamma mia se andate nel salento ho pasticciotto a colazione guai faccio schifo ragazzi grazie mille avana club per i quattro mesi buonasera papa l'avana club sono strani ragazzi sono tutti nelle voce grattare la schifo si pareva che obiettivo principale raggiunto bersagli eliminati comunque pecora zoppa domani vive nella vita di uno streamer domani domani filma il video nella vita di uno nella giornata di uno streamer ma sono avanti i capelli bisogna te è una domanda e vabbè si è una giornata per far capire che la giornata è una giornata non domani no nel senso vabbè mentre gioco ah ok ok anche io vorrei iniziare a fare il vlog potrei fare il vlog mi chiamo il papasanto immaginate savi i vlog oh ma questo è so ho questo saldi attivi i prezzi delle stazioni di acquisto sono ridotti qua qua da me qua no chi l'ha sopra 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 oh 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 finito l'arma questo è un campo d'addestramento è il gulag combatti per tornare in azione l'ingegnera vado a fare con i potenziamenti soldati l'hai fatto super l'ho finito col ma l'hai fatto no provai a farlo fare tutto no vabbè ti conviene prendere proprio le cuffie sempre da quel lì prendi anche le cuffie chi c'è lo lixa qui 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 c'è lo lixa vado a pushare pure senza armi dai castro io faccio 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 vieni ma qui ho trovato una corazza questo va da me questo va da me faccio dai tirassi il suo compagno è stato autorizzato a rientro se tu lo challenge da lì non possiamo farlo ho capito bravo eh se lui si è affacciato sul muretto che faccio mi faccio sparare no però dico anche se lo chiami io anche perché lui ah vabbè si ho capito intanto te lo chiamo hai fatto bene che io so salito ma sopra non l'ho sentito proprio questa va sia la mia sinistra grazie crap per i 12 mesi grazie per l'ami insieme cercato ma queste costano bravo costano 600 700 su cuffie da concerto che poi tra l'altro sono andato da Amplify a farmi il calco l'orecchio allora è stato a low town sta vita che c'è un po' di gente c'è anche una corona non ha senso qui che arrivo ma la gente a low town tutti vanno a low town c'è un atro non c'è un'altra ma c'è un'altra ma c'è un'altra i papolerini però viene sicuramente i più forti del mondo eh Sì, è l'ultimo. solo tra i domandolo a marco quando mai chiesto per giocare con te è successo un coglione scritto oggi c'è quando ti ha chiesto 100 euro in così il pranzo a casa della casa mia se vuole sapere il pranzo eh sì sì 100 euro il pacchetto serata con me per mangiare anche a casa con mamma che però sai che ci sarebbe è un pacchetto sinistra marco 4 no non li ho visti ma erano proprio lì non volevo farlo però sono forse di mezz'ammare siamo un po' in open zio cane zio bravo lui bravo lui stava lanciando la canna per lui eh da dietro a dietro a dietro vanno a dietro prendono l'altezza ma la sif deve venire eh si deve venire ma la musica non c'era sì non li vediamo dietro con la roccia no ecco l'avevamo una passata adesso traccato sopra aspetta aspetta vai 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 e ti serve come stai ho 50 smoke, eh ma perchè ero full invece ero full di smoke killer paradiso ragazzi c'è tipo 15 smoke se mi dovrò il carrello qua sotto stai, avete gente che vi catta o no? abbiamo fatto i peggiametti no, siete sereni, siete tranquilli andiamo a sto carrello alla corona oh cecchino cecchino davanti beh io sto indietro bucciano, bucciano gas in arrivo, raggiungere la nuova zona sicura vai Ciccio Ciccio, the word is yours, remember ci proviamo ci proviamo basse oh mio dio chi ha preso, hai salvato il culo, eh? madonna, quasi bravissima è stata una stilata slash aiuto no, 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 questa è una stilata va perchè sono fatto un jump strano ha fatto il personale ma dove vedete ciò vuoi via perchè io con l'HRM e con la canna lunga che è usato dalla terra non mi ci trovo oh, bye sopra il giustra rossa, tu, eh? faccio il giro tutti i compagni sono nella zona sicura sento flyer c'è stato un nemico in arrivo c'è stato un nemico in arrivo c'è stato un nemico in arrivo aspetta attiva ragazzi Questa attiva Buera, buera, buera Apa che ha detto questo? Per impedire la fuga, Sabi No, no, sono morti Beh, vabbè ragazzi, comunque non è possibile Bravi Al termico? Al termico mi sa, eh, livello 91 Al termico, al termico Tirano tutti a piccola La tua squadra è nella zona sicura Non è superare la route tu, cazzo Eh ma sono sceso Eh ma sono sceso Doveva andare al morto Perché ci hai pushato là? C'era uno Marco Eh qua, no Flare flare flare, super Flare 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 No Sei morto smoke non è che non ha smoccato un cazzo peccato se armi di merda poi ha fatto uno ho fatto l'altro io ho ammazzato quello tuo ho buttato subito una smoglia ma solo mi hanno fatto i vostri mi hanno fatto i vostri mi hanno fatto i vostri mi hanno 4 euro 8 no no pensavo fossero che so io ho fatto uno era un'altra da voi ci c'è morto io pensavo fossero tipo che ne so due due io ho fatto c'è comunque non pushare mai così tanto c'è c'è sempre con intelligenza non usare sotto quella casetta sotto con la casetta cammini minchia minchia cos'è scivolà xios 50.000 50.000 triglie ne ha vinte un milione un milione e 13.000 ha vinto minchia ha vinto 200.000 triglie un po' con 10.000 bettate ma c'è gente che ha votato 250.000 triglie massimo votato perso tutto compreso z addoni ggg bella partita bravi bravi ragazzi bravi ragazzi adesso c'è il team che ci hanno trovato alla fine grazie mille grazie mille per la barbettura regalato alla community in oiz grazie mille e vabbè se la sono giocata bene ragazzi guardando il cross giocata bene giocata bene la loro ho capito vittoria meritata va bene va bene allora se tu perdi dai a marco se noi perdiamo le diamo le do a pelle cosa è successo che è successo è zitto tu fai il kill e bust facciamo wage lui e te io e te ciccio lui e te è supremo e quel pellaccio ok la pelle d'accordo la pelle non c'è beh deve essere per forza d'accordo ah c'è splawick cambialobby forse vabbè non lo so come vuoi vabbè non cambiare non cambiare non cambiare comunque c'è gente forte eh savi italiano italiano io stavo ci c'è pure gasta ci c'è pure bella ragazza bella ragazza ma ciccio c'è pelle c'è ma ci scambiamo di discord ma io no no non c'è ma covelle chi è lost tu ciccio ristartiamo ristartiamo ragazzi ah minchia ma come si fa perché l'hai distaccato è perché pensavo che non ce la facciamo è che mi hai chiamato mezzo ora perché praticamente perché praticamente stavo facendo una stiamo facendo una stiamo facendo una wager io con ciccio tu con su pedro e loro si sfidano di biz cosa bella è perché lui non caccia la mai bit ragazzi quindi tu stai facendoci e ho capito però puoi dire pure senti io metto in palio 3000 bit ma scusa loro metto in palio cosa vuol dire tra di loro o la squadra tra di la squadra ah ok ok cioè non è ciccio contro su pedro no 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 ah ok ok oh su pedro sei pronto a fare 50 bombe no tra l'altro c'era pure splawick in lobby che mi ha salutato però sono uscito però non c'ho voglia di triardare così ecco perché è uscito quel bastardo anche anche faccia da splawick c'è stato come si chiama il la prelobby che sono andato in bagno è subito startata si c'è stato ma pochissimo mi ha corso fino al tabù con savi lui sa è stato il santo spirito 2 secondi di oggi c'è il marco lino tabù che è un po' non ci c'è dove abbiamo parcheggiato la macchina buono il tabù no siamo andati a mangiare insieme a due latità siamo andati alle 7 e mezzo siamo andati a mangiare un panino Marco lì è che si deve aspettare pego la zoppa dopo che gli hai portato primo c'è la 7 euro e 50 e poi tu la triccione te ne torni a Napoli fai Napoli no si ma il pensiero che conta io quello sull'autogrill quello ho trovato no in autogrill pure in autogrill ci in autogrill ha trovato hai detto che ha detto in autogrill ho trovato la bottiglia il pensiero quello che conta ma che dice la mente cioè qual è passata in autogrill ha preso la bottiglietta di moncello scusa ciccio ma forse era meglio se non portava niente no 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 me la fai vedere la bottiglietta dopo? adesso me la fai vedere non lo so se ma me l'ha messa ma sarà la forma di italia tipo? no no se me la fai vedere ti dico da dove viene se me la fai vedere ciccio ma la pecorazoppa vabbè pecorazoppa è quello si può 21 22 vabbè però c'è sì quello vito quello si può voglio dire ma che dì da fare le vacanze e poi da fare le vacanze e poi da fare le vacanze spende soldi è una cosa tipica del mio posto ciccio è una cosa tipica del tuo posto con il limoncello ma no l'industriale commercialissimo ma non devi guardare i dettagli nel senso devi guardare un po' sai sai ah monica che schifo dividiamoci ragazzi io ciccio ma ci spettiamo sul discord stiamo insieme stiamo insieme ah stiamo insieme vabbè dobbiamo fare stiamo attaccati o stiamo andando a stare splitati il gas si avvicina rapidamente portarsi subito alla zona sicura ma non vale niente savi o vale tutto no vale tranne il flare tranne il flare facciamo ah dai facciamo facciamo wager normale però non vale né rischieramento né getto né gula va bene ok eh tu vieni con me allora ciccio segui vabbè seguo te seguo te seguo te seguimi seguiamoci sto cercando di capire dove va la gente ma eh io ci sei ormai sto giù c'è una pippa sei giù giù là ok arrivo 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 ah rischieramento non c'è vabbè ho preso che sbaglio hai di schiantart dopo ti devi schiantare porto al mondo wow comunque la casa ma che la grazia trova solo scuso questo c hai visto dove stanno fai tanti seguo me seguo me se sopra vive tornerai in azione ah attenzione dammi soldi cicci dammi soldi non sono nella zona sicura per me mi compro un'arma ho fatto malissimo quello lì eh ho lasciato 9 di vita eh ma intanto l'hai detto che ha mantellato vai a baluncio un'arma di merda non ce l'ha wow è cowdwell mi sa che fa wager fortissimo mi sa che lo conosco forte soldato nemico in arrivo ci c'è venuto avanti ci c'è venuto avanti chiamate duit questo per uno sparo si lancia oppure riavviate meglio di riavviare puoi dire abito di stare troppo adesso pedro è bravi vieni vieni è strano eh eh qua ci mangia gente brava è strano è strano ho pagato bene che cazzo sotto i noi ci c'è due o tre garcia bella 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 bombarda devo entrare qua dentro bella sono bella sono sono ferito Sì Schiantati ciccio Sì Andiamo via su Pedro Non fai il ciccio Pedro qua si giapponesi ma che lobby è questa? è difficile di alzare hai fatto la kill? bravo bravo bravissimo andiamo a loadout Anto? si vai tu prima c'è no perchè c'è soldi per il res oh gattone stiamo facendo wager io e ciccio contro pelle adesso Pedro puoi vai verso sinistra ciccio perchè a destra stavano loro non l'ha pagata nessuno puoi giocare un po separato ok ok arrivere quanti ne vedi? un altro un altro un altro un altro superiore nooo c'è un altro c'è un altro c'è un altro ah già già c'è un altro ci cerca di non correre mai troppo così con il giro vicino un po di solcino qui ci sono dei soldi come hai visto quelli là ci c'è davanti a noi non sono male vieni qua come c'è ah dai andiamo qua andiamo qua eh questi non sono male ciccio eh qui te li vado all'oddy eh rimani in vita vabbè 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 ci hanno visto ci hanno visto uh ce l'è qua ce l'è qua Marco a destra close sopra qua ciccio non è male eh sono quelli bravi ciccio bravo G forco di scorpio fa calo questo eh ci sono forti questo dove stanno fattandoci sì sì ho visto ma andiamoci eh sveglio e le scepe le resta ah guarda io sveglio è morto eh sì sì questa è brava ci vieni qua seguimi a seconda mi sono messo di merda ho visto sinistra c'è gas in arrivo c'è una nuova zona sicura bella bella eh ma muoio mi sa io qua ti rimango in vita tu cacchio è morto no no che l'ho via che cazzo stanno quelli dai posso andare da tutti per l'anno mi sono messo che palla sono morto wow gas in avvicinamento appunto che c'è una foto là wow ragazzi guarda quelli va vai ciccio puscia quelli là se li vedi qualcuno della tua squadra è fuori della zona sicura c'era gente davanti a te eh qui qui c'era gente eccolo eccolo ciccio qua non è male non è male ci sta attento ma qua ma è un pippone ecco dietro poi mi servono colpi di meglio calibro smoccano smoccano vai di qua oh vuoi stare splittato c'è gente ma più che altro se muoriamo tutte e due è un problema capito perdiamo dai stiamo splittati così non mi cazzo poi mi rassi guarda tranquillo no ne è affatto fai gioca vento mamma mia che b eh non me ne prendo un cazzo per lei fuck muori forse sì forse no 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 è super qua io sono una merda proprio attenzione c'è una stazione di acquisto nemica no no la sicura localizzata no 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 dove l'hai fatto marco dove l'hai fatto qui c'è gente qua dentro questa casa vieni come ci è morto sono morto ogni volta che devo fare uno di quattro è impossibile c'ho i danni di savi c'ho tre kill e subito c'ha mille danni c'ho tre mille c'ho mille stesse kill oh tanto c'è che ci minano vieni prendi i ballonci subito non puoi fai dare quelli che mi hanno ucciso non fai dare questi che sono bravi vieni insieme hai soldi tu ciccio ok si non so se non so se potrei morirci sparo mi sparo mi sparo mi mi muovi pure io adesso ma c'era un altro c'è dentro la sinistra è visto c'è non è sceso lì oh io per là oh io ho scelto sono balut sono qui ma c'è stiamo giocando per 3000 beats ragazzi 3000 beats 2v2 wager io ho contro io a destra ho sentito questi sono bravi ci c'ho tanto poi bravo facciamo con calma e i granati da tirare lì sì aspetta non lo so qui nell'area di equipaggiamento in arrivo qualcosa qua visto da dove si si un'altra manata GG Bravo Ciccio Ciccio Un motto è servito eh Facciamo la rivincita Ciccio Io non ho potuto giocare Il pappacena Che duo Che duo Ciccio Bravissimo Hai giocato alla partita Posso dirlo Alla perfezione Vabbè Siamo stati sfigati Era incredibile Questa adesso È impossibile Non si vede niente 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 Allora A testo Non siamo stati Non si vede niente Non si vede niente Non si vede niente Non si vede niente Gatti in avvicinamento Nuova zona sicura Ma scusa, ma che cazzo di Joe? Ma c'è pelle Ho fatto Team White sul tetto e ce ne sono altri due, ragazzi Ce ne sono altri due, bello No, due sotto Ah, peccato, sono parte Ho sentito Team White Stai pensando, Marco A che spari sul calavare, Garzia, che vedi schifo No, ragazzi, è incredibile Si è agganciata, la mia assistita su quella terra È incredibile, comunque, il fatto che Il ritmo per lo squadro istante Io faccio due persone su testo adesso E avevano di fianco loro due persone L'altro team Perché non si fai, te non lo so Oh, Ciccio, Wager vinta? Ma vogliono Pagare Pagare Mi sta dando manutenzione in corso Quello, sintesa Solo scuse Se no, potremmo andare a dormire anche con questa bella win Eh, Ciccio, quant'è chi l'ha fatta? Quanto hai fatto? Due, tre Quanto hai fatte? No, due, però Due Però, però, non posso dirti niente Perché i miei compagni di squadra Ma nell'ultima botta qui mi hai fregato un paio di kid Vabbè, però, Ciccio, ci sta Vedi, vedi, su Pedro Eh, vabbè Stava scherzando Mi ha mandato pure a Ciccio Perché se no, lui Magari No, perché? Perché dici che non ti credo? No, cazzo C'è un po' No, si sceme Amica, tu fai sti cosi No, stai facendo sti cosi Domani te lo ricordo Non dire qua Domani te lo ricordo Che nervoso sta cosa Vabbè Che signifia Quanto ora l'ho lasciato pano? Una settimana Ma io se E te sarà un va stasera Ah, dovevamo fare cosi Non ho dato del rinco Sono le due Dovevamo fare la rivincita Ma veramente Assurdo Ora ha pagato, vedi Valerio Valerio lo diceva Ah, ora ha pagato Ah, ora ha pagato Quello di prima, no Assurdo Assurdo Volevo rispondere a Che scambi Tra l'altro sei pure napoletano No, dico io Ma giocano con te Per far abbassare il rato della lobby? Big hug Mr. Garzia Tu ti abbassi un po' i pantaloni E ti metto un dito Volevo scrolo Ti metto il VIP Metti E adesso il VIP Signor Melo Ah, scusate Scusate, scusate Non ero mutato Vabbè, penso che tanto Vado a dormire ragazzi A sto punto Hai baciato a piegare la zappa? E domani Domani devo svegliarmi Presto Domani devo stare Alle 9 al barbie I notelli I notelli Deve devi dormire Ah Penso che te lo metti i cotteni I lettucci No, le lettucci Dove sta il posto? Se sta il posto Bella Vortex No, dove ti C'è di sciarco o no? Sonsara C'è Sì, sì, sì Certo che c'è Eh, cocazzi 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 Che avevo sull'istra Ah, se non sarà da solo No, no C'è la macchina Eh, sì, sì Poi alla fine Alla fine Bocca Bella, bella Vortex Bezzo di carogna Anche prima di andare a dormire Ci metti Ci metti la Lo spavento Eh, islandese Brutto Ma hai detto che non sei altro Oh, ragazzi Buonanotte Ciccio Grazie su Pedro Bella Ciao, ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ma il boss è ancora qua? Ma che cacchio fai? Eh, vabbè Mi è rimasto qui Mi sono tormentato Ciao, ciao ragazzi Ragazzi Oh, grazie a tutti Islandese Islandoide nazionale Grazie Infinite Buonanotte a tutti Grazie per essere stati insieme a me Insieme a Savi L'Ultro Noi ci becchiamo domani Per l'ultima giornata Prima di qualche giorno di pausa Perché c'è la pausa Pasqua Sabato Domenica Pasqua Lunedì E tornerò poi martedì Perciò domani ragazzi Non mancate Perché si scrive la storia Domani taglio fresco Per me il Pecorazoppa Che porterò un pochettino in giro a Bari E niente Ci aggiorniamo su Instagram Abbraccio a tutti Ciao ragazzi Su Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti